cari amici bentrovati a questa ventitresima puntata del positive cast anche oggi avremo un altro ospite straordinario che ci racconterà un aspetto della vita di cui un po' tutti siamo curiosi perché c'è una tipologia di professione che ci fa amare quelle persone ci fa immettere le loro emozioni ci fa sotto certi punti di vista anche immaginare come conducono la loro vita e molto spesso anche sperare di essere come loro e oggi veramente abbiamo l'opportunità di poter sentire dal vivo il background tutto quello che c'è dietro questo mondo straordinario che è il cinema abbiamo una persona di ribera che sta iniziando a impegnarsi in un mondo importantissimo di professione fa l'attore ma bando alle cange ve lo presento vi presento il grande raffaele tadei grazie grazie buongiorno a tutti vi ringrazio insomma per l'invito e possiamo iniziare se volete iniziamo iniziamo intanto il nostro format prevede una breve presentazione da parte dell'ospite quindi se ti vuoi presentare i nostri cari amici diciamo chi fai chi sei allora sono raffaele tadei e sono di ribera mi sono trasferito a roma un 11 anni fa ormai e ho studiato recitazione e al centro sperimentale di cinematografia e mi sono diplomato nel 2019 e poi da lì ho iniziato a fare le mie prime pubblicità i miei primi film e mi sono iniziato a prendere le mie prime soddisfazioni dopo anni 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 di gavetta ma gavetta seria con tanti tanti fallimenti ecco se qualche cosa di questo diciamo se ce ne parlerai anche con piacere fra fra le varie parti del podcast nella discussione cioè già il preambolo che c'è stato che è stato forse in anticipo in anticipo ci saranno alcuni diciamo parti speciali in questo in questo parti inedite ecco in questo podcast perché già tanto abbiamo detto prima prima pensavo fosse già iniziato il podcast in realtà è iniziato niente io avevo il microfono pure qui quindi perfetto perfetto e allora cari amici dopo questa brevissima presentazione concludiamo l'introduzione ci vediamo fra poco per la prima parte del positive cast alla grande e allora cari amici prima parte del positive cast quello il capitolo della vita con il grandioso raffaele taddei una persona che sicuramente avrà fatto tanto discernimento perché immaginatevi se foste voi gli attori di un film e dovete essere un personaggio quanto discernimento ci sarebbe prima quanto bisogno di capire le cose c'è prima di poter entrare nell'ottica del poter rivivere quel personaggio quindi secondo me diciamo la domanda la prima parte del positive cast come si entra nel personaggio quello che ha capito della vita diciamo cala molto a pennello perché secondo me tu di di cose che hai capito della vita non le capite solo della tua vita ma anche delle vite attraverso i personaggi di tutte quelle persone di tutti quei personaggi diciamo che hai recitato e che andrai a recitare quindi prendo questa domanda abbastanza leggera io no no e te la chiedo te la lancio e ti chiedo caro raffaele no l'è beccata l'è beccata perfetta perché effettivamente io ho notato sì ok va bene l'esperienza a roma 11 anni a roma vivere da solo iniziare a fare le prime lavatrici cucinarti da solo dopo che la mamma te vizie per tanti anni però effettivamente le cose che ho capito della mia vita cioè io come sono fatto i frammenti miei le mie sfumature tutte queste cose qui le ho capite attraverso i personaggi che ho affrontato perché comunque come dice un mio insegnante del centro sperimentale vito mancusi non so se salutiamo il buon vito attraverso i personaggi tu fai una terapia cioè è come è come se andassi dallo psicologo perché tu attraverso il personaggio capisci quali sono i punti tu hai in comune e non in comune col personaggio e da lì capisci tante cose di te per esempio forse io sono più introverso che estroverso forse a me piace più andare a giocare a bigliardino piuttosto che andare in discoteca c'è tante cose che poi con l'esperienza quando costruisci un personaggio approfondisci sempre di più ecco ed effettivamente questa cosa questa roba qui mi ha aiutato per essere oggi quello che sono infatti assolutamente sì 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 è un personaggio che per me è rimasto a cuore micuccio bonavino che è un personaggio scritto a luigi pirandello nelle lumie di sicilia che ho interpretato ad agrigento alla valle dei templi in estate poi ho fatto la tournea anche in italia ed è un personaggio che mi ha dato tanto perché per esempio era una persona molto innocente era una persona di cuore buona un pezzo di pane che non vedeva la malizia nel mondo cosa che a me è successa prima di partire per roma no perché comunque ribera c'è quella bontà no c'è quel quell'essere persone vivere in una bolla così sì no essere genuine cosa che a roma invece c'è gente che sono proprio dei lupi no e io non ero pronta sta roba qui e quel personaggio l'ha fatto in quegli anni l'ha cioè quando avevo 19 anni quando mi sono trasferito a roma c'era come se parlassi con un doppio meno ed era tipo birdman una doppia coscienza no come cosa come si chiama fight club una doppia coscienza capito e per esempio quella è una persona che un personaggio che mi ha segnato tanto e che mi porto ancora dietro nonostante gli anni e quindi ti ha fatto capire che tu sei anche tu diciamo un pezzo di pane un pezzo di pane no anche un pezzo di perché comunque roma mi ha mangiato ok ti ha fatto allupare no perché poi 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 ho scoperto altri caratteri tipo l'ultimo film che ho fatto che dovrebbe uscire dopo l'estate dovrebbe l'ho detto però non lo dovevo dire non lo vuoi dire che sogno scaramatico il positive cast finalmente ha un anteprima cari amici speriamo che la rispettiamo perché ormai abbiamo aspettato due anni per far uscire sto film per esempio lui è uno stupratore ed è un personaggio molto negativo che cercava di prendere le turiste le seduceva e poi le portava dentro un hangar e dentro l'hangar le stuprava le violentava le drogava che è una cosa completamente diversa da micuccio buonavino e io ho scoperto non di essere uno stupratore ma avere una parte di me maliziosa che giustamente piace giocare con le piace giocare con le donne gli piace fare la bella vita con questo 30 anni capito no e quindi vedi due poli opposti e quindi vedi che tu non sei soltanto quello ma tu sei malizioso sei buono sei cattivo sei sadico sei genuino sei altruista sei egoista cioè quindi è veramente un'analisi andare ad affrontare un personaggio capire proprio il significato di ogni singola di quelle parole che hai detto e potersi immaginare poi quali dovrebbero essere i comportamenti che sfoggiano in quell'azione cioè per esempio la differenza non lo so fra sadico e malizioso qual è cioè come hai fatto è importante intanto partire quindi dalle parole prima ancora delle azioni per poter avere una giusta chiave di lettura in quello che ti vai a immettere allora in realtà ci sono diverse metodi c'è chi va di memoria emotiva cioè gli americani con lo stamislaschi il metodo usato da robert de niro al pacino noi siamo un po più di pancia siamo più fisici no io per esempio utilizzo il metodo meissner chiamato così che me l'ha insegnato sempre vito mancusi che ricito che lui è uno di quegli insegnanti che mi ha dato veramente veramente tanto perché io prima usavo la memoria emotiva ma la memoria emotiva molte volte ti può tradire cioè nel senso che molte volte tu pensi una cosa non ti viene più da piangere o da ridere o da diventare sadico no e quindi che cosa fai usi il corpo io per esempio se sta cosa la prendo e la prendo così che cosa ti sto mostrando magari che sono calmo se sta cosa la piglia così ti sto mostrando che forse sono nervoso e già il corpo questa cosa qui ti dà uno stato d'animo diverso certo certo quindi sono io non mi affido più alla memoria emotiva ma quando costruisco un personaggio penso subito ok questo personaggio tutte queste caratteristiche in questa situazione con giuseppe di stefano come si comporterebbe io magari ti sto parlando così ma io non capace che ti parlasse così cambia già tutto cambiano tante cose oppure io per esempio sto così magari lui parla così si mette così e già sembra un'altra un'altra situazione quindi mi affido più al corpo quindi il sadico il malizioso il buono tutto viene attraverso il corpo tutto per me e infatti la costruzione del personaggio con questo metodo è molto molto più lenta adesso io sto costruendo un personaggio per un film che girerò a gennaio a maggio certo perché tu vai a analizzare non solamente diciamo lo stato emotivo in cui devi trovare ma proprio i gesti che devi fare in ogni singola cosa potrebbe essere generare quel sì 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 diciamo quella emotività quella sì 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 perché è normale tu studi proprio le caratteristiche del personaggio come nella vita come è stato prima come potrebbe essere in questo presente e come potrebbe che cosa potrebbe fare in futuro dopo il film come te lo immagini il personaggio prima del film come te lo immagini il background di questo personaggio tutte queste cose poi messe insieme ne parli con il regista e lì si iniziano a costruire le famose azioni fisiche che ti portano poi a creare il personaggio certo tanto che quando tu guardi film di cacchio no dici quello è stato premiato all'oscar tipo al pacino è stato premiato per il padrino ed effettivamente tu quando lo guardi ti dici sembra che non fa niente perché è tutto negli occhi ma anche quegli occhi sono un'azione fisica no quello che fa è tutto molto pacato si comporta così sì ma tutte quelle là sono azioni fisiche capito che ti portano a dire cacchio al pacino ha cambiato completamente se stesso per diventare il personaggio e se lo porta completamente dietro il personaggio come Robert De Niro in Taxi Driver Taxi Driver lui il suo personaggio è completamente diverso da te lo scatenato cambia la fisicità quello che dice come lo dice anche la parola che usi come la usi come parli se sei più veloce se sei più lento anche banalmente il pagino stesso fra il padrino e Scarface quando cambia è pure sossimili un po' no? tutti e due diciamo erano capi mavi capi di un gruppo diciamo criminale mettiamolo in questa maniera però diciamo il background quello che voleva emergere che voleva essere diciamo quello più visto di tutti i Scarface da padrino che tu invece sei il figlio che deve prendere le retine quindi deve mostrare diciamo le palle in più con una cultura siciliana quindi cambia totalmente capito c'è sempre il potere però per esempio uno è un po' più restio l'altro è un po' ti faccio vedere capito? si si e cambia un po' l'espressione ma banalmente anche quando si siede diciamo quando si siede Scarface diciamo Donne Montana si siede diciamo in maniera molto gradassa si si invece quando tu vedi il padrino comunque c'ha sempre diciamo una postura elegante una postura elegante bravo che ti deve diciamo dimostrare quella forza non data dal come dall'altra parte dalla strafottenza ma proprio dalla potenza della postura bellissimo bellissimo questa riflessione si si e anche si si è importante poi giustamente bisogna anche stare attenti a non tipo che ne so devo dare una caratteristica al personaggio che non ne ha bisogno molti per esempio zoppicano o fanno delle cose che il personaggio non ha bisogno per dirti il mio personaggio Micuccio Bonavino come dicevo prima era un personaggio che con il regista volevamo creare qualcosa che desse la sensazione di una persona timida timida e che quindi non riusciva ad esprimersi nei confronti del mondo al di fuori quindi un po' balbuzziente poteva essere l'opzione balbuzziente sì però la balbuzia è una cosa che oggi secondo me è anche scontata e quindi come fai ad essere più autentico possibile semplice una persona timida non ti riesce a mantenere lo sguardo quindi sta sempre così magari ti parla e ti parla e abbassa lo sguardo e anche quella è un'azione fisica certo e già lì stai creando il personaggio poi aggiungi diverse cose per creare poi un personaggio che spero ti porterà a Cannes o gli Oscar o gli Oscar sì ci siamo sentiti quando ci siamo sentiti a telefono gli ho detto Raffaele sono veramente felice di ospitarti oggi che ti avrei ospitato fra dieci anni con tre Oscar dietro mi saresti costato un po' di più invece abbiamo questo è il tuo primo podcast che fai sì è il mio primo podcast ufficiale il mio primo podcast primo podcast rivelazioni tutte cose ma che che quando è denso sta chiacchierando forse quando mi hai chiamato ho detto mi sentivo Matthew McConaughey vabbè mo ci assomiglio mo ci assomiglio bene speriamo di fare la sua carriera speriamo di fare ma sai secondo me anche lui avrà fatto la sua cavetta anche lui avrà avuto le sue difficoltà ho letto il suo libro eh non l'ho studi non l'ho letto io però insomma ha menato prima di arrivare dove Matthew McConaughey va la sua caratteristica principale secondo me è il carisma e l'intraprendenza quello di cui parlavamo prima lui è stato intraprendente in un'epoca in cui non c'era instagram social però lui se tu leggi il libro per esempio lui se ne stava in dei posti chiave per esempio il bar tal detali per conoscere il regista bravo bravo che è quello che secondo me anche un attore dovrebbe fare cosa che io essendo essendo per come so fatto parlando delle sfumature a me cioè non mi piace tanto fare public relation perché non mi sento vero con me stesso anche se non si direbbe anche se non si direbbe anche se non si direbbe cioè io sono una persona che se ne sta nelle sue però per esempio lui è stato intraprendente è stato bravo perché lui per esempio il suo primo film se non sbaglio l'ha fatto perché ha conosciuto un produttore senza sapere che fosse un produttore e quel produttore ha detto guarda tu c'hai sta faccia particolare facciamo questo provino e da lì è partito un metto però per esempio in via Veneto a Roma c'era la movita una volta c'era Vittorio De Sica c'era Fellini questa movita a Roma oggi per esempio non c'è perché tutto gira intorno come dicevamo prima sui social qualche festa privata che ogni tanto ci vado di malavoglia però però ci vado ci vado non lo diciamo a chi ti inviterà diciamo sempre felicissimo ci vado alle feste felicissimo come sarebbe diciamo un un personaggio che non è felice qual è il gesto di non essere felice però andare felicemente in questo caso costruiamo al volo al volo sì ma non lo so mi viene da pensare che ti fa un sorriso ma gli occhi ti tradiscono tipo tipo non lo so una cosa ti dice sì però sempre abbassa lo sguardo vuoi venire alla festa ma che piacere io sì sì tipo questa è versione commedia ok già creare la versione commedia è più facile per me perché per esempio ho notato che improvvisare viene molto più facile anche creare espressione da commedia ok invece sul dramma quando tipo devi fare una cosa del genere ma in una questione drammatica cioè in una scena drammatica in una circostanza drammatica è più difficile perché devi trovare lo sguardo giusto non devi ridere non devi fare devi trovare le prove e fai anche le prove con i registi per capire anche ma quanto è importante il gioco del silenzio tipo che vi guardate e non ridete per allenarvi funziona? no però allora fidati che certe volte se capiti con l'attore che magari conosci e ti sei trovato bene a lavorare devi fare una scena seria che magari che ne so due omosessuali e il partner ti capita che è un omosessuale che non che è un omosessuale che è etero come te e devi trovare devi fare il bacio la scena del bacio con lui ti giuro che è complicato perché mi è successo durante un uno spettacolo di teatro a Napoli ma in questo caso c'è il bacio per reale certo c'è il bacio reale senza lingua diciamo senza lingua si fa la finta però anche lì per arrivare lì c'è un rapporto fisico una certa intimità diciamo si andrà a trovare che la devi trovare durante le prove per esempio con lui abbiamo fatto prove di un mese e mezzo per trovare la nostra intimità che comunque era una coppia omosessuale certo ma le prove le faggiavate diciamo solamente sul set o anche diciamo per cercare queste intimità anche fuori magari no no fuori no io sono uno che fuori mi faccio la mia vita pago le bollette pago le tasse faccio quello che devo fare ti ripeto sempre gli americani tentano tentano tipo a obbligarsi a rinchiudersi tre mesi tipo Joaquin Phoenix lui è un pazzo se deve girare un film a gennaio lui già ad agosto è pronto per il personaggio perché lui proprio si isola si poi ottiene risultati infatti il Joker un po' anche come Joker il Joker sì no ma il Joker è quello di prima Heath Ledger che poi è morto addirittura perché già si talmente tanto nel personaggio però lì si dice che comunque era in una fase lui di depressione perché era diventato famoso per quel film là no per il film che aveva fatto prima poi Heath Ledger gli ha dato il Joker gli ha dato il successo definitivo e lui non ha retto il successo e ha sbagliato la dose degli antidepressivi se non sbaglio e da lì Heath Ledger poi è morto lui per esempio era un grandissimo attore lui si era isolato aveva il suo diario secondo me lì proprio lui è diventato Joker lui era impressionante cioè perché tipo anche quando faceva sì sì con la lingua questo questo gioco si vedeva che non era un gioco pensato ma era proprio quasi un automatismo che lui faceva capito perché quanto cambia quando tu hai questo automatismo in questa volta che non è quella semplicità diciamo di gamba a zoppa o balbuziente che noi ma era proprio c'è quell'espressione sadica di divertimento ogni cosa che facia un personaggio clamoroso veramente no lui è impressionante è stato molto molto bravo secondo me meglio di Jack Phoenix per per te sì per come l'ho vissuto io diciamo non da addetto ai lavori ecco da fan sono tutti e due non gli puoi dire niente a tutti e due c'entra ma sicuramente alla carriera entrambi persone soordinarie però se dovessi io immaginarmi un Joker o dare un voto attribuire diciamo chi è stato migliore o chi personalmente è piaciuto Heath Ledger si 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 io non lo so perché come cioè veramente è come fare l'ambleto Cristiano Ronaldo contro Messi che è più forte sono stati tutti e due bravi però sì effettivamente loro come ti dicevo prima si chiudono per esempio Heath Ledger non ha visto sua figlia o sua figlia mi pare per tre mesi per prepararsi al ruolo cioè è gente che proprio loro hanno una dedizione incredibile gli italiani siamo invece più non è che non siamo bravi o siamo meno bravi abbiamo una tecnica diversa semplicemente io come ti ho detto uso il corpo per arrivare a quella roba là e se io devo fare quella roba che ne so devo fare uno stupro come è successo nelle scene che dovevamo ripetere la scena più volte io utilizzavo le mie energie le riservavo nel mio corpo e le riutilizzavo dopo certo dopo il settimo ottavo Jack eri morto tanto che poi a fine riprese avevo mi ero preso pure la bronchite che a Pantelleria abbiamo girato a Pantelleria ad ottobre è iniziata a esserci il vento c'è stato il cambio stagione e tutto e molte scene erano fuori di notte in acqua era un bel casino quindi quindi ti dico cioè io per esempio le prove le faccio a teatro cioè quindi ho a teatro al cinema quello che è al surset poi fuori di lì siamo di nuovo due persone normali fine ma anche anche le scene che ho fatto con le ragazze cioè mi sono successi dei cortometraggi dove dovevo fare delle scene anali c'erano dei cortometraggi dove c'era il bacio con la lingua c'erano delle scene dove dovevo simulare di fare sesso con quella donna qual è il limite lì cioè tu ce l'hai cioè nel senso il limite io ce l'ho nel senso il regista mi dice ok fisicamente dobbiamo fare queste cose qua facciamo questo questo e questo il bacio poi vai sul seno poi va nelle parti intime che poi di solito quelle sono coperte quindi non si vede niente però ci sono attori che invece si lanciano ancora di più quindi vanno verso l'erotico diciamo però se c'è il consenso anche dell'altro partner perché no e se sono single se gli altri partner comunque sono d'accordo però io di solito mi creo un limite dico ok bacio c'è bacio questo qua mi lancio di brutto col bacio poi dopodiché c'è amici come prima e basta che ce devi anche distinguere il bacio però le prime volte le prime volte al centro sperimentale quando facevo i primi esercizi io mi innamoravo ogni cinque minuti ogni cinque minuti e oggi posso vantare giochiamo e giochiamo però per esempio le mie compagne di classe le ho baciate tutte e non è poco e allora ragazzi se volete avere più fortuna con le donne fate la carriera da attori o i porno divi che quello è oltre Rocco Insegna l'hai vista tu? l'ho iniziata ieri sera io pure sono alla prima puntata mi farebbe piacere fare un poco perché Alessandro Borghi per me è uno dei più grandi attori sul panorama al momento diciamo nazionale non dico che è stato il più grande però uno dei migliori sul panorama nazionale che abbiamo anche perché diciamo ha fatto Subburra ora Rocco non essere cattivo non essere cattivo le otto montagne cioè e anche comunque ha cambiato tanto i suoi personaggi da un punto a un altro è sempre diciamo è riuscito però a tramandare quel messaggio molto molto forte e adesso ti voglio dire in Rocco per esempio cioè come l'hai vista tu questi li hai analizzati questi primi momenti cioè oltre sicuramente diciamo aver fatto un buon lavoro ovviamente ti voglio dire qualche diciamo aspetto tecnico che tu magari hai analizzato e che magari può essere sfuggito a noi quale può essere io per esempio la prima cosa che ho notato dei primi 5 minuti della puntata è stata la risata che fa così no Rocco Siffredi fa sempre così quando ridelo ed è difficile riprodurre quella roba là no perché non è una risata facile quella del Rocco devi avere proprio la mimica della faccia adesso è giusta e lui ci sono stati due take belli mentre lui arrivava mi pare che era l'inizio della proprio della serie dove c'era tutta quella confusione che tutto la clamavano e lui c'è stato fenomenale su quella roba là poi io ancora devo vedere la scena però già quella in azione fisica fondamentale per diventare Rocco e poi mi sono visto anche dei frame che ho bloccato ho visto il trailer dove lui ha un'espressione che è uguale a Rocco cioè se tu vedi Alessandro Borghi e tu vedi Rocco Siffredi sono due persone completamente diverse ma lui ha cambiato proprio lo sguardo ed era molto molto simile a Rocco Siffredi poi il contesto il contenuto della storia io ancora non l'ho visto ho visto semplicemente Alessandro assolutamente ma diciamo l'attore questo e poi diciamo la storia in sé per sé c'è il regista però nel contesto d'attore noi questo stavamo valutando molto bravo e già vedi questa è una piccola sfumatura che non avevo mai fatto caso ovviamente ogni volta chi ha detto ai lavori diciamo cogliere le sfumature diverse e questa qua diciamo una cosa interessantissima a cui farò molto più attenzione poi dipende perché se è un biopic cioè se è un film sulla biografia è molto più facile però per esempio anche Oppenheimer con Cillian Murphy io non so come lo si comportasse no? cioè non so come lui fosse nella vita vera il vecchio l'originale l'Oppenheimer diciamo l'Oppenheimer però ha vinto un Oscar quindi sicuramente io infatti mi voglio un po' informare e capire come come lui è arrivato al personaggio e se è stato veramente simile al vero però un personaggio quando te lo inventi invece un personaggio secondo me è più bello cioè non hai non hai limiti ok se invece tu devi rispettare che ne so tipo Letizia Tonista mia amica mia amica collega che abbiamo lavorato insieme nel film che abbiamo fatto di Giuseppe Ferlito e adesso lei il 2 maggio andrà su Netflix con Gianna Nannini lei ha interpretato Gianna Nannini sicuramente lei un personaggio veramente esistito avrà avuto molto più limiti perché comunque devi rispettare Gianna Nannini certo e secondo te in queste cose quando sono vivi diciamo quando ci sono le biografie ecco biotopic come chiamate biopic ah biopic biopic però non so se è la parola corretta diciamo biografia diciamo filmi biografici film biografici ok andiamo verso l'America però il gergo ci sa diciamo da utilizzare anche perché secondo me ogni lavoro ha un un lessico adeguato adatto a quel a quel lavoro però comunque tornando Gianna Gianna Nannini alla tua amica ti volevo chiedere ma secondo te hanno passato del tempo insieme tipo come se ci fosse diciamo come un ghostwriter che deve andare a scrivere la storia la tua biografia per te quindi passare tanto tempo per farsi raccontare e narrare quelle cose anche maggio in un film secondo me sì cioè lì poi quando c'è la produzione Netflix di solito ti mettono accanto l'acting coach che è quello che è come un personal trainer per il corpo lui ti fa ti allena per la recitazione e quindi se non studia lui tutta la parte diciamo di come dovesse essere fatto studi tu e studia lei quindi studiate insieme il personaggio e secondo me lei è stata affiancata da un acting coach io adesso il film non l'ho visto non ho visto la sua interpretazione non è uscito quindi però sicuramente avrà avuto un acting coach a fianco e secondo me perché ho visto anche le storie di Letizia e sta anche con tantissimo è stata con Gianna Danini c'è stato il concerto ieri e lei era con Gianna Danini secondo me hanno creato un rapporto affinché sicuramente Gianna le potesse dare anche perché comunque come dicevi tu dobbiamo fare poi delle cose più fedeli possibili un po' come anche immagino Rocco e Alessandro Borghi avranno condiviso del tempo insieme sì loro due mi pare di sì perché infatti ho visto che erano molto legati anche nelle interviste quindi secondo me sì poi ho sentito che lui si è emozionato tanto quando ha visto se stesso e la sua storia sì 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 perché comunque è come come se facessero la vita cioè su di me raccontassero la mia vita a Ribera tipo incontro di Pasqua ti immagini riproducono l'incontro di Pasqua non vedo l'ora che succederà frate speriamo speriamo secondo me io prima di arrivare a 80 anni speriamo anche prima qualcuno qualcuno farà qualche qualche film su di me o qualche tanto facciamo i film io ci credo io ci credo io pure ci credo io ci credo io ci credo per forza se siamo qui col Positive Coach per forza ci amacchire certo no ma anche perché ti dico qual è l'alternativa no non ce n'è l'alternativa qual è l'alternativa o ti sbracci e segui le tue passioni o se no resti a casa pigli la chiave e chiudi e basta è finita no no sicuramente devi seguire le tue passioni le tue ambizioni cioè tra l'altro io sta cosa l'ho scoperta per caso la recitazione cioè come è nato è nata è nata praticamente qua dietro al cinema ok ti ricordi quando facevamo le ribalte a scuola certo e io quell'anno là l'anno prima i miei compagni di classe perché la mia classe era formata da 15 ragazzi mi pare ed eravamo tre ragazzi leggeo classico oppure ragioneria ragioneria perito turistico io ero ah ecco perito turistico perito turistico e ragazzi dai facciamo balliamo facciamo qualcosa e io ho ballato il primo anno il secondo anno Kevin Kevin di Lucia è il mio miglior amico uno dei miei migliori amici mi ha detto ma facciamo qualcosa di diverso recitiamo io recitiamo io non mi ho recitato che dobbiamo fare facciamo qualche sketch di qualcuno scriviamo uno sketch ho detto boh vabbè abbiamo iniziato a fare i sketch di Ficarreppicone ma così per gioco abbiamo fatto la sedia che arriva la sedia che arriva e poi da lì a scuola c'è stato un boato ci sono state insomma abbiamo trovato ho trovato la mia forma perché ho detto finalmente è la prima volta nella mia vita perché mio padre mi ha sempre chiesto cosa vuoi fare nella vita me l'ha chiesto fino a 17 anni fino al giorno che ho trovato cosa volevo fare nella vita e infatti poi da quel giorno là io mi ricordo che a fine spettacolo la gente si era alzata e c'è stato un applauso dentro il cinema bellissimo incredibile e poi abbiamo continuato abbiamo continuato abbiamo fatto la tournée in tutta la Sicilia a Brolo così con gli sketch scritti da noi e poi da lì ho detto sai che c'è ho detto ai miei genitori io mi sa che me ne vado a Roma e provo a fare questo là perché è l'unica cosa che mi dà soddisfazione che mi distrae dai miei primi dubbi dai miei primi problemi che si dà anche sicurezza e certezza sicurezza e certezza quando lo stai facendo per esempio ho notato prima di entrare qua dentro ero molto teso teso poi quando devo parlare o quando salgo su un palco c'è come se si spegne tutto e parti c'è una cosa assurda no? e quindi da lì ho scoperto sta roba qui di recitare e infatti io ancora oggi io lo dico sempre a Chene ti ringrazio per avermi fatto scoprire quella cosa là perché non so oggi cosa avrei fatto assolutamente assolutamente ma sai questo qua è un bellissimo esempio di ah e ringrazio la professoressa di Leo la professoressa di Leo e la professoressa Camera che loro due poi mi hanno fatto fare altre cose altri spettacoli poi drammatici e poi da lì poi insomma siamo andati avanti quindi ti hanno fatto esplorare il personaggio a 360 gradi diciamo poi abbiamo fatto altre cose abbiamo fatto tipo uno spettacolo sui Conte Luna e Conte Perollo che era tipo la battaglia tra Ribera e Shaq tutte queste robe qui la mamma di Kevin aveva fatto i costumi insieme a mia mamma insomma belle cose belle ricordi non studiavamo proprio io avevo la testa a stare sul palco e quando già senti questa roba qua dici ok hai trovato la tua via e poi giustamente ci sono tutti i pregiudizi vabbè come farai difficile un lavoro un muore di fame sì però va bene la vita secondo me diciamo è data dal posizionamento che cosa ti voglio dire se tu vuoi fare una cosa molto spesso devi essere posizionato bene per poterlo fare e per te per arrivare a questo primo film ci sono voluti quelle attività iniziali tutti questi dubbi undici anni di cavette di begne di cose da dover fare alla fine per poter essere posizionato lì e poter assolutamente cioè prendere questa opportunità no ma infatti però scusa un attimino mi faceva piacere un attimino diciamo lanciare un messaggio a tutti i nostri cari amici che ci ascoltano sul fatto di buttarsi e provare delle esperienze nuove anche diverse cioè e provare nelle cose perché tu se avessi detto no a Kevin perché sei una persona timida non ci saremmo oggi qua magari saremmo qua a parlarne sicuramente per altri versi per altri motivi perché magari di Sheffield vedere un'altra cosa però diciamo in quel momento storico tu hai detto di sì hai trovato quella chiamata ti sei messo in gioco nonostante tutte le difficoltà del caso tutte le insicurezze a voglia a voglia tutti i blocchi perché che l'avevamo mai fatto prima scrivere uno sketch e fare queste cose no 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 assolutamente e questo è un grandissimo esempio di come da una ribalta un'opportunità comunque da un amico lanciata lì e buttata lì se sfruttata ti può cambiare totalmente ti può cambiare la visione della vita la visione della vita la visione della vita perché poi ok fai questo poi vai a Roma fai esperienze come tornavamo prima inizi a conoscere personaggi inizi a conoscere te stesso cioè comunque c'è stata una consapevolezza in più una crescita personale in più tante cose o come dicevi tu rischiare ma anche rischiare appunto in generale no a me piace anche mettermi in difficoltà proprio per esempio l'anno scorso no due anni fa sono partito da solo a Zante sono andato in Grecia da solo e io ho questo deficit che non ho studiato bene l'inglese e lo sto studiando adesso ho detto sai che c'è siccome a casa non lo studio perché comunque a casa non lo studi me ne andavo sempre o a Trastevere a Roma che c'è un sacco di turisti e quindi studiavo l'inglese così oppure mi facevo sti viaggi in solitaria che eri obbligato per forza a parlare e quindi dici ok una parola oggi una parola domani una parola dopodomani bene o male ti imparerai ancora non lo so bene l'inglese però per dirti riesco a comunicare riesco a comunicare o per esempio a Dubai ero sopra il Burj Khalifa con i miei genitori e dovevamo riprendere la nave da crociera che stava per partire ed eravamo lontani e se non parlavo un po' di inglese restavo ancora là sopra con la fila perché c'era la fila per salire e la fila per scendere e quindi quell'esito accede per dirti l'importanza dell'inglese in questo caso ma l'importanza anche di sapersi buttare per crescere bravo oppure per dirti l'altro due anni fa io me ne sono andato ho fatto Bologna Firenze a piedi che è il cammino degli dèi si chiama e quando dove ci sei stato? 5 giorni sono 160 km e ho detto ai miei mi faccio questa esperienza voglio partire da solo e voglio stare in solitudine e capire anche molte cose di me sono partito da solo mi sono allenato un paio di mesi e lì ho trovato gente fantastica ci siamo divertiti ogni sera mezzi brilli cioè è stata una delle esperienze più belle della mia vita l'esperienza più bella della mia vita è stata perché sono stato 5 giorni in silenzio perché quando poi camminavamo si stava in silenzio non si parlava si spegneva il telefono si arrivava alla meta e si iniziava di nuovo a parlare a dialogare ma sappi che c'è fida di che quando sei in silenzio per 7-8 ore a camminare cioè il cervello va in pace va in meditazione si sciolgono anche pensieri più brutti soffri un po' di solitudine però la cosa più bella è stata arrivare a Firenze e disprezzare il casino che c'era perché comunque tu eri in pace e io ho pensato mamma mia se potessi fare un'altra volta sto cammino o altri cammini cioè io li apprezzo tanto perché capisci anche tanto di te come i personaggi anche il cammino ti porta a pensare a capire è stato anche quella è un'esperienza di mettermi in difficoltà ho altre avventure che però non dico che sono molto molto più sono censurate queste sono censurate però mi piace mettermi in difficoltà perché per crescere hai bisogno del dolore del fallimento certo non devi essere masochista assolutamente però devi trovare c'è bisogno diciamo di essere forgiati nelle difficoltà e non diciamo nella zona comfort ma sai io ti capisco benissimo per circa 20 anni ho fatto lo scout di camminate e chilometri frate ne ho fatti senza numero e fine dormire in tenda stare senza cellulare quindi diciamo capisco veramente molto bene quello che tu mi stai raccontando la cosa che io però a mio avviso ho valorizzato più di tutti durante la fase di camminata lo sai qual era lo zaino sulle spalle perché quello zaino sulle spalle diciamo rappresentava un po' la responsabilità che tu devi portare durante la tua vita noi infatti vedevamo ogni tanto che c'erano delle persone delle ragazze magari in difficoltà io mi caricavo anche la loro responsabilità addosso e poi le salite e le discese non erano altro che diciamo il nostro percorso di vita sai io per esempio ero il primo in salita e l'ultimo in pianura perché io andavo sempre alla stessa velocità non c'erano velocità che cambiavo mantenevo sempre la stessa velocità sia in salita che in pianura e questo diciamo in salita e in pianura anche con due e alle volte tre zaini dipende diciamo dalle salite o dell'impegno che ci voleva e lì diciamo ho capito veramente che la cosa importante è la costanza la costanza sì assolutamente perché se tu sei bravo a mettere un piede dopo l'altro sempre salita discesa pianura riesci ad arrivare sempre alla fine invece ti dico che se tu in salita diminuisci o acceleri magari non la riesci a fare tutta poi la salita se in discesa vai più veloce magari ti fai male le gambe perché diciamo devi stare molto più molto più attento quando devi frenare c'è molto più impegno da inserire morale della favola che noi dobbiamo diciamo in tutte le fasi della nostra vita sempre avere una sola prerogativa mettere fare il prossimo passo sì e se noi ci concentriamo ardentemente nel fare il prossimo passo ci guardiamo indietro quanta strada abbiamo fatto da fuori sì a voglia a voglia cioè io infatti molte volte penso a sta roba qui e dicevo anche ai miei genitori no di della vita cioè nel senso questi 11 anni a Roma mi hanno cambiato nel senso io i primi tre mesi a Roma sono stato veramente veramente male perché comunque passi da 17 mila abitanti a 4 milioni di abitanti alla metropoli agli amici che non ci sono a ricrearsi una vita andare a fare la spesa magari a 200 metri e portarsela addosso tutto il tempo tutte queste cose qui e anche le mie paure no le mie paure vengono accentuate vengono accentuate assolutamente quindi poi vedi che poi inizi a cavartela da solo inizi a pagarti la casa da solo le bollette da solo ti cucini da solo i problemi li affronti da solo sai parlare da solo non hai bisogno della mamma a fianco che ti accompagna per parlare per dirti con l'avvocato con tutte queste cose qui o per comprare la macchina o per affittare la casa o per affittare la casa tutte queste robe quindi sono in totale indipendenza perché comunque in Italia c'è sta roba qui che siamo un po' che è bello a me piace essere un po' mammoni ecco a me piace essere mammoni però capisco pure che a volte è un problema perché certe volte ti porta a essere a non risolvere alcuni problemi allora il problema secondo me io ho analizzato tanto questa cosa dopo la dipartita di mio papà ed è il problema più grande lo sai qual è quello che abbiamo bisogno dell'approvazione altrui ah quello sì e quindi o meglio più di che l'approvazione l'autorizzazione o consenso quindi ogni volta che fai una cosa cosa ne pensi che cosa dici quindi non abbiamo affilato fino a quel momento fin quando noi cerchiamo conferme da parte degli altri non abbiamo affilato il nostro processo decisionale che è quello che ci permette diciamo di ridurre il gap che ci permette di credere in noi stessi ossia prendere una decisione non dubitarci e andare dritto per quella strada ma come hai fatto tu diciamo voglio fare l'attore boom muri porte quando cosa la mancassi per poter per poter andare diciamo ad essere oggi qui a raccontarci questa bella storia purtroppo invece che ha un processo decisionale debole e poi sai nella cultura nostra anche i genitori hanno un po' di piacere diciamo nel poter è un po' una cosa tra il sadico e l'egoista mettiamolo in questa maniera il sadico perché gli fa piacere sempre farti sentire minori rispetto a loro e quindi far valere che loro ne sanno di più che loro hanno più esperienza ma che non fanno manca apposta cioè culturale 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 non è brava cioè se una mamma o una nonna ti cucina la pasta lo fa per piacere per amore assolutamente però se tu stai cucinando la pasta loro ogni volta ti devono dire ma si fa così ma si fa così ma devi fare così ma devi fare così capito quello è un problema quello è un problema questo ti voglio dire io non le attenzioni che ti danno le attenzioni che ti danno figurati cioè sono bellissime però quando tu stai facendo una cosa spiegarti sempre come si sta facendo e allora si che diventa un problema anche perché quella cosa che dimentichiamo un po' tutti è che ogni tanto capitano quelle situazioni in cui diciamo si trova quel parallelismo e si cerca di mettersi un po' in competizione sai però quando c'è una mamma che ha 55 anni e è cogenato diciamo 50 milioni di volte e tu che ti appresti a cogenare se non ti danno quel margine d'errore quel margine di sbagliare bravo non ti ci metti capito no cioè il processo di crescita è dato dall'errore non è dato dalle cose giuste che fai ma dall'errore anche di di avere la libertà di lasciarti libero di sbagliare bravo bravo cioè proprio di sbagliare no perché poi ti dicono eh però perché avresti dovuto fare eh avresti dovuto se lo sapevo e non facevo un'altra cosa no però sai si parla tanto di intelligenza artificiale e l'intelligenza artificiale come funziona funziona in una maniera semplicissima gli dai tu un input e loro fanno errore 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 soluzione a post errore 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 soluzione errore 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 soluzione cosa ti voglio dire che le macchine non avendo tutta quella parte emotiva da dover gestire sbagliano 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 poi trovano soluzione capito c'è soluzione invece noi con questa carica emotiva non puoi sbagliare non puoi fare sensi di colpa frustrazione si crea un babocchio clamoroso che non ti dà l'opportunità di poterti mettere in gioco e gestire e andare a scommettere alla fine la vita è una scommessa perché tu questa scommessa la stai vincendo perché ci stai mettendo tantissima dedizione cioè non eri tu io voglio fare l'attore ecco come si fa l'attore ti sei andato a documentare poi quali sono le migliori scuole dove bisogna andare quanto costa l'affitto come ve lo pago hai fatto tutta una ricerca di studio di fattibilità di ricerca dietro diciamo che ti ha posizionato adesso e ti ha messo in questa condizione diciamo di poter essere tale raggiungere il tuo sogno capito però tante altre persone invece soprattutto i nostri genitori ci fermiamo due minuti su questo argomento ci soprattutto qua in Sicilia nascono per posizionarci è bravo bravo posto fisso allora guarda i miei genitori no questa roba no cioè i miei genitori tuo padre comunque diciamo è stato uno che si è reinventato tante volte ha fatto tantissime cose quindi poi va dalla parruccheria alla pizzeria bravo sì sì tante cose e quindi diciamo anche tu cioè mio padre è una persona che è cresciuto con i suoi nonni comunque vengono anche dalla mentalità ancora più chiusa mio padre volevano cioè volevano che mio padre facesse per forza il parrucchiere e mio padre ha fatto il parrucchiere per 40 anni però il vero sogno di mio padre era fare il macellaio o capito no ed è tutta un'altra roba mio padre cioè mio padre crescendo così mi ha detto tu devi fare quello che vuoi fare mia mamma ha la stessa cosa quindi io da questo punto di vista ho avuto la libertà però conosco molte persone che per esempio la cultura generale qual è ma anche i miei amici che è di Roma che hanno fatto l'università si sono laureati hanno il posto fisso a molti miei amici ho chiesto e adesso sei felice e no perché ho fatto quello che mi hanno detto i miei genitori e ora che facciamo cioè ora ti sei preso una laurea e il prossimo passo qual è cioè tu farai così per 30 anni per 40 anni ti sei rovinato la vita perché ho detto perché ho detto ok non esiste solo il lavoro però svegliarsi la mattina e fare una cosa che ti piace certo fare l'attore molte volte ci sono periodi d'attesa c'è periodi d'attesa di 6-7 mesi prima di fare un film e ci sono anche lati negativi però quando fai una cosa che ti piace fare ti piace e dici ok aspetterò il mio turno la farò però fare così a trovare il posto fisso il posto sicuro 5.000 euro al mese ok vabbè 5.000 euro ma te li puoi godere quei 5.000 euro perché se tu stai 8 ore là dentro 9 ore 10 ore fare una cosa che non ti piace tantissimo e che ti forzi a fare quando te li godi questi soldi assolutamente quindi è quello un po' e c'è sta cultura come dici tu assolutamente inseguire i soldi piuttosto che diciamo io in generale ormai decido quello che devo fare non in base all'aspetto economico ma in base a come impiegherò il mio tempo cioè quali saranno le task che farò per raggiungere per chiudere questo progetto mi piace fare queste cose le voglio fare queste cose da fare allora le faccio non sono diciamo e allora ci guadagno tanto facciamo questa cosa ma invece proprio l'attitudine a come al piacere di come fare queste cose e questo e questo è poi quello secondo me quello che fa la differenza assolutamente assolutamente no no è vero è vero e allora facendo un bel recap siamo partiti dallo studio da mi come si chiama il primo personaggio che hai fatto Micuccio Bonavino Micuccio Bonavino Micuccio Bonavino siamo partiti da lì quindi da quella persona buona da quel pezzo di pane poi siamo arrivati allo stupratore quindi un grandissimo cambiamento poi siamo arrivati diciamo all'analisi anche degli altri attori e delle diverse diciamo tipologie di costruzioni dei personaggi dai film biografici ai film diciamo alla costruzione dei personaggi dove tu te lo puoi immaginare da zero abbiamo parlato anche della differenza fra le varie scuole di pensiero la scuola emotiva che c'è negli Stati Uniti la scuola diciamo più di pancia e più di azione fisica di azione fisica come si chiama questa scuola metodo è un metodo metodo Meissner 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 che comunque non è propriamente Meissner perché Meissner comunque faceva un'altra roba ok è rivisitato è rivisitato poi abbiamo parlato di di che cosa abbiamo parlato della famiglia della famiglia dei viaggi personali dei viaggi personali ma soprattutto abbiamo parlato di una cosa bellissima che è da dove è iniziato tutto questo bellissimo processo dal cinema qua 300 m dal grande amico Kevin che secondo me avrà bisogno di royalties quando inizierai a fare film e io glielo proporrei un 05 di royalties sul tuo però un riconoscimento c'è senso perché comunque quando fallisci le prime volte di brutto e poi cadi e non non ti riesci a riprendere bene cioè mia mamma per esempio è stata una persona c'è la famiglia in generale sono state persone che mi hanno detto ok vabbè lascia perdere vai a lavorare alle poste no mi hanno detto siccome tu sei proprio portato per fare la roba provaci provaci cioè per esempio una volta mi hanno preso per un film da protagonista una settimana dalla riprese giochi di produzione hanno voluto che prendessero un'altra persona perché era più famosa di me capito e quindi tu già il primo fallimento primo provino cioè arrivi in finale pigli il primo film bam fallimento pigli la prima serie bam sostituita posticipata perché c'è il covid e quindi rimane andato cioè sono cose brutte poi le attesi a casa di 8-9 mesi prima del primo film prima che ti arrivano i provini perché comunque i provini funzionano così il mese proprio ricco cioè è da i mesi da marzo fino a fine maggio e poi ci sono tutte le riprese di tutte le varie produzioni si fermano a settembre ripartono un po' di nuovo e quindi tu in quei 7-8 mesi o pigli qualcosa o non fai niente certo e quindi in quegli anni in cui tipo non facevo completamente nulla era devastante perché emotivamente stavi a casa quindi la mia famiglia comunque mi ha portato a continuare a fare questa roba qui ti ha spronato l'antimino sì mi ha spronato a fare questa roba perché comunque psicologicamente devi essere forte molto importante sì quindi abbiamo parlato poi della famiglia vorresti aggiungere qualche altra cosa su quello che hai capito della vita beh ho capito dalla vita che bisogna come dicevamo prima lanciarsi quello proprio rischio la mia filosofia di vita è rischia e poi si vede poi dipende devi essere anche consapevole di rischiare calcolato non è inconscienza non è coraggio è inconscienza sicuramente arriverà te ne va adducendo ti investi 100% quindi sì quello rischiare sicuramente ed essere anche pronto anche a essere curioso ecco soprattutto essere curioso che secondo me la curiosità è una cosa che ormai va in secondo piano assolutamente assolutamente l'ho notato io per esempio da Instagram tutte queste robe qui cioè io per esempio una volta era con la mia ragazza eravamo a casa stavamo praticamente nel divano a vedere il film ma in realtà eravamo al telefono a fare così quei reel e non avevamo più cioè è più veloce fare sta roba qua che vedere un film ed essere curioso di quel film o non siamo più per esempio io mi ero arrabbiato e ho detto no non può essere così cioè dobbiamo essere curiosi di andare a un museo di farci un viaggio per esempio siamo andati a Berlino l'ultima volta cioè spegniamo sto telefono e capiamo un attimo come è fatta la vita quindi secondo me anche la curiosità è una cosa che ti aiuta tanto e la curiosità secondo te diciamo come si può stimolare facendo solamente banalmente facendo delle domande oppure secondo me tanto leggendo cioè allora io mi faccio cioè io sono una persona che di base sono sempre stato curioso e quindi sono sempre stata una persona che se mi stimola qualcosa la voglio leggere la voglio leggere la voglio vedere voglio vedere una mostra voglio imparare una lingua cioè per dirti io durante la pandemia ho iniziato a studiare francese adesso parlo francese mediamente perché volevo parlare francese non se sa perché volevo parlare francese la curiosità si stimola pure trovando una persona a fianco a te che ti stimola per esempio Camilla la mia ragazza è una persona piena 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 di input e grazie a lei io per esempio ho conosciuto anche parti di me secondo me anche grazie alle persone tu conosci parti di te assolutamente e grazie a lei io per esempio ho scoperto tante parti di me di base io ero un po' curioso però lei è ancora più curiosa di me e quella curiosità ti porta a scoprire delle cose bellissime assolutamente tipo io per esempio denigravo prima per me per esempio vabbè questa ignoranza preferivo la poesia alla pittura perché secondo me la poesia i versi ti fanno vedere qualcosa ti dicono ti danno un significato perché è scritto capito lo puoi capire poi dipende chi quale poeta ovviamente l'arte invece è una cosa che è a impatto lei come una persona molto curiosa e molto testarda ha detto ok allora facciamo così andiamo a Bruxelles ti faccio vedere i quadri di Magritte io ho visto i quadri di Magritte e sono rimasto interdetto perché però mi ha aiutato cosa la mia curiosità e le persone che insomma che ho conosciuto nella mia vita che mi hanno portato comunque a scoprire tante cose come per esempio il teatro il cinema comunque quando ho studiato il cinema ero circondato da persone molto più intelligenti di me molto più colte di me che mi hanno portato a conoscere tante cose e da lì secondo me la ricetta per la curiosità è circondatevi da persone colte più colte di voi e anche più in gamba di voi anzi soprattutto non dovete essere invidiosi delle persone più in gamba di voi perché crescete grazie a quelle persone là e basta questo mi viene da pensare sono d'accordissimo con te quindi morale della favola le persone di cui ti circondi ti vanno a contaminare totalmente totalmente e in base alle persone agli ambienti che giri un po' come faceva il buon McConaughey vai a trovare quelle opportunità o vai a scoprire quei lati di te nascosti che ancora non conosciamo non conosciamo chiudiamo con una citazione del mio grande amico architetto Antonino Alessi che dice una cosa importantissima che dice noi siamo il 99% di quello che di quello che ci circonda e l'1% di noi stessi è vero e con questo cari amici si conclude la prima parte del nostro positive casting questa 23esima puntata con il grande Raffaele Taddei e io vi dico alla grande alla grande cari amici ci ritroviamo per la seconda parte del nostro positive cast nel 23esimo episodio con il grande attore Raffaele Taddei che ci sta come la scorsa settimana lanciando bombe di riflessione non spunti di riflessione insomma mi piacciono queste bombe di riflessione dai sono contento e allora cari amici i miei eroi abbiamo scoperto nella prima parte quindi quali sono i valori che contraddistinguono un po' il nostro Raffaele entrando poi anche in racconti personali che gli hanno fatto capire ogni esperienza noi gli ha fatto capire qualcosa di diverso adesso invece ci andremo a scoprire chi sono state le persone magari che l'hanno ispirato che gli hanno dato qualche cosa qualche spunto di riflessione qualche bomba di riflessione importante che l'ha portato poi diciamo ad essere quello che è oggi e anche ad ammirare persone diciamo intorno a lui che l'hanno reso la persona che è oggi ossia quelle persone ordinarie che fanno cose straordinarie e quindi adesso caro amico ti chiedo chi sono i tuoi eroi allora la prima domanda quindi con questa domanda mi viene da pensare subito Robert De Niro Robert De Niro perché perché prima di di fare l'attore di decidere di fare l'attore quando quando ho scoperto di fare di volerlo fare e vedevo tutti i film di Robert De Niro ho visto i film di Robert De Niro quei bravi ragazzi Casino insomma un toro scatenato e ho visto che proprio era molto molto bravo e Robert De Niro a differenza di molti attori oltre a essere bravo mi dà l'impressione che è una persona anche molto non l'ho mai conosciuto però ho fatto Cannes con lui ok sono andato a Cannes col centro sperimentale e l'ho cioè l'avevo perché abbiamo fatto il red carpet insieme e avevo Robert De Niro qua soltanto che era circondato da 2000 persone era come veramente incontrare Dio e sembra una persona molto 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 umile tanto che io ho visto un suo discorso dove diceva lui è una persona che ha vinto tutto cioè una persona che veramente ha vinto tutto sul suo campo a voi ed è una persona che stimo tanto perché nonostante il suo successo è rimasto molto umile tanto che mi ha colpito un suo discorso dove diceva bisogna sempre stare calmi anche quando si ha tanto successo anche quando non c'è più il successo quando si fallisce perché lui diceva ho visto persone andare e venire perché si si sono lasciati prendere dall'entusiasmo ma nonostante tu hai successo nonostante insomma diventi Robert De Niro al pacino e tutto cioè comunque devi stare calmo e devi ricordarti da dove vieni cioè le mie radici quali sono Ribera l'incontro di Pasqua e i miei amici ok ricordati sempre questo quella lezione là Robert De Niro nonostante lui abbia avuto successo conosce un sacco di persone ha vinto tanti Oscar per me lui è un mio eroe fisso e poi perché mi sembra non lo so perché fa ridere sta cosa ma somiglia un botto a mia nonna c'ha ma di fisionomia ma di fisionomia cioè ha le stesse espressioni di mia nonna e a volte mi ho detto a mia mamma ma guarda Robert De Niro nelle foto non sembra la nonna Maria ma mia mamma cacchio è vero sembra la nonna Maria e secondo me perché anche in mia nonna Maria vedo quella saggezza comunque nonostante successi mia nonna è una che cerca di mantenerti sempre stai con piedi per terra non sei nessuno ricordatelo sempre quindi questa è una persona che stimo che stimo tanto per il coraggio per il carisma come dicevamo prima Matthew McConaughey perché è una persona c'è incredibile c'è una positività un carisma un'energia un entusiasmo io ho seguito anche i suoi discorsi di crescita personale ma ora hai iniziato anche un nuovo programma diciamo di mentorship mentorship sì 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 non mi ricordo come si chiama non mi ricordo nemmeno io però dice veramente delle cose interessanti ma non perché uno deve essere esaltato però è bello quello che dice assolutamente ti riempie l'anima ti dà degli spunti di riflessione giusti ma banalmente quando è stato lui premiato che cosa ha detto eh lui ha fatto il suo discorso io sono il mio eroe fra dieci anni sì il mio eroe sono io fra dieci anni che poi quando passeranno quei dieci anni la sicuramente non avrà il mio io da adesso non sarà l'eroe che insomma avrò raggiunto perché poi il mio eroe è colui che mi porta sempre a mete sempre più alte e quell'eroe stesso l'ha portata a vincere l'Oscar pensando comunque di non essere un eroe comunque era un discorso abbastanza complicato e Mattio Meccone è per questo perché è una persona molto coraggiosa molto entusiasta della vita ed è molto grato e io ho letto il suo libro per esempio ed è una persona ricca di gratitudine cioè è grata perché per esempio io oggi sono grato perché mi ritrovo qua a fare questa intervista perché comunque c'è un piatto chiacchierata chiacchierata perché comunque c'hai un piatto di pasta mentre nel frattempo nel mondo sta succedendo quello che sta succedendo ed è una persona che ha viaggiato tanto che ha trovato quel coraggio che mi ha fatto trovare a me il coraggio per esempio di partire da solo di fare il cammino da solo di imparare l'inglese da solo di imparare il francese da solo di affrontare problemi da solo quello è un'altra persona che stimo ma oltre agli attori poi giustamente come ti dicevo prima ci sono i miei genitori principalmente mia mamma che mi ha praticamente durante ogni fallimento mi ha ripreso e mi ha rimesso in piedi la mia ragazza Camilla perché comunque è una persona che salutiamo Camilla Agnoloni che vedrà presto l'intervista perché lei è una persona che insieme a mia mamma mi ha visto fallire però lei è stata più in presa diretta rispetto a mia mamma perché mia mamma stando a Ribera non mi vedeva sempre quindi lei vedeva tutti i fallimenti fallimenti che erano per esempio un provino non è andato bene come il callback che è il provino finale che magari non va come i momenti di crisi in cui stai per troppo tempo a casa ed è una persona che c'è stata sempre a sostenermi economicamente perché c'è stato un periodo nero pure per me quindi mi ha aiutato economicamente anche i miei genitori mi hanno aiutato economicamente poi io mi sono ripreso grazie a dio adesso sto bene però sono le persone che forse principalmente sono i miei supereroi ti hanno reso chi sei oggi sono i miei capitani america ecco e poi infine secondo me il supereroe come diceva mettiamo i comuni che sono io cioè nel senso io non vorrei cambiare la mia vita con nessun altro mi piace la vita che faccio mi piace i problemi che ho affrontato mi piacciono i miei problemi lo so che non mi piacciono a livello emotivo ma razionalmente mi piacciono perché comunque mi stanno portando verso uno step successivo verso una crescita e quindi come diceva anche tra l'altro ho battiato cioè non cambierei la vita la mia vita con nessuno perché nonostante tutto alla fine mi piace dove mi sto andando e e dove arriverò e speriamo e dove sei e dove sono e dove sono soprattutto perché comunque oggi devi godere il presente la parte di gratitudine è legata molto a un oggetto di presente più che di futuro perché soprattutto il mio supereroe ma non è una questione di ego è proprio una questione proprio pratica che io vengo da un contesto in cui io da piccolo per esempio durante l'adolescenza stavo sempre molto a casa stavo molto chiuso a casa perché ero molto grasso ma non c'è niente di male essere grassi secondo me che ognuno si deve vedere bello se è magro se è grasso c'è gente che si odia anche perché è magra o perché è grassa e e io non mi vedevo bene non mi vedevo bene con me stesso e quindi stavo molto a casa non uscivo di casa non avevo quella fiducia in te stesso non avevo la fiducia in me stesso non mi allenavo non facevo nessuno sport mia mamma e mio padre mi portavano a fare sport non ne volevo fare di nessun tipo perché non mi piacevo pensavo di non piacere alle ragazze e poi piano piano ho iniziato a trasformarmi perché per esempio il basket mi ha aiutato tantissimo ho iniziato insomma a dimagrire col basket perché poi ho cambiato dieta ho iniziato comunque a crescere e il basket è stato il primo input che mi ha dato iniziato a darmi fiducia ecco poi c'è stato il teatro perché come ti dicevo prima il teatro poi mi ha salvato perché ho capito cosa volevo volessi fare nella vita e da lì poi quella fiducia si è sempre più fortificata ecco portandomi fino a crescere 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 e arrivare adesso dove sono diciamo che sono abbastanza un carro armato adesso quindi quindi sì un carro armato nel senso buono nel termine assolutamente non sei lì per distruggere ma per abbattere le barriere per abbattere le barriere ecco infatti poi ho dei progetti che sto cercando di mettere in atto però che poi ti dirò più in là nella seconda nel prequel nel sequel il primo la prima ospitata nella seconda volta che verrai ospite ci racconterai questi progetti in corso o già avvenuti o già avvenuti assolutamente tanto che infatti poi dopo e la fiducia definitiva è stata quando al centro sperimentale mi hanno preso Giancarlo Giannini mi ha scelto eravamo 900 attori aspiranti attori ne prendevano soltanto 12 6 ragazzi e 6 ragazzi e io gli ho detto ok ci vuole una raccomandazione grossa quanto una casa per lì però in realtà no perché poi sono entrato quindi la meritocrazia la meritocrazia esiste in Italia esiste non è vero che siamo tutti raccomandati aiuta sempre avere un buon network come a voglia a voglia che raccontavi prima però anche quello può essere meritocratico non per forza deve essere diciamo sotto raccomandazione e quindi insomma diciamo questi sono i miei eroi Matthew McConaughey De Niro mia nonna mia mamma è me stesso e Camilla praticamente loro però devo citare anche un'altra persona che è la mia ex ragazza Sofia che per esempio lei è la ragazza che mi ha praticamente aperto il cervello a metà cioè ha detto ok apriamo sto cervello e mettiamoci dentro delle cose importanti e io infatti l'ho sempre ringraziata quella persona infatti siamo in buoni rapporti ci siamo lasciati in buoni rapporti perché è stata la persona che mi ha fatto scoprire tantissime tantissime cose come per esempio l'importanza di esserci per gli altri cioè io per esempio ero una persona molto egoista prima no e me ne freghista e lei è una persona che mi ha imparato mi ha insegnato questo non mi ha imparato mi ha insegnato anche tanto a leggere perché tramite la lettura attraverso la lettura scopri tante cose cioè la lettura è veramente incredibile no anzi lei non mi ha insegnato l'altruismo mi ha insegnato a a essere più umano con le persone che io prima ero molto rigido quindi mi ha insegnato l'umanità e la solidarietà nell'essere umano la rigidità magari ha dato dalla timidezza non diciamo dal fatto che tu non fossi umano ma ha dato una timidezza magari interna e lei ti ha mostrato che anche questo lato umano un timido lo può pure mostrare a voglia a voglia sì sì e poi comunque non c'è niente di male cioè anche io dico per esempio ho citato Sofia la mia ex ragazza nel senso non c'è niente di male a citare la propria ex perché se una persona ti ha fatto bene io credo tanto che una relazione quando ti innamori di una persona stai con una persona è perché nel vostro percorso di vita nel vostro destino vi dovete insomma scambiare scambiare delle cose per crescere e passare allo step successivo tanto che io a Camiglia le ho detto questo cioè se riesce a stare oggi con me con Raffaele abbastanza evoluto rispetto da dove venivo lo devo e grazie a Sofia e grazie anche alle persone che ho conosciuto durante il mio percorso e durante i miei viaggi che ho fatto perché se no magari ero ancora Raffaele di una volta che non c'è niente di male però comunque bisogna evolversi nella vita io credo che la vita non è soltanto sposarsi non è soltanto fare vita è anche quello è anche il lavoro ma è anche capire che cos'è la vita cioè cos'è la vita cioè perché siamo qua cioè quindi farti anche queste domande che sono secondo me fondamentali molto importanti molto importanti quindi per quanto riguarda i miei eroi sono questi eroi li abbiamo citati tutti sì 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 riprendo un po' dal fatto che tu sei stato uno dei pochissimi qui nel positive cast che si è autocitato come eroe ah sì e anche io mi autocito come eroe ma come dici tu non è una cosa egoistica no è perché io sono il protagonista assoluto della mia vita certo quindi se non sono io il mio eroe che cacchio è cioè se non sono io quello che può fare quelle gesta eroe che metterle tutti i giorni step su step ma chi deve essere capito assolutamente ci devono essere anche gli altri assolutamente assolutamente però l'attribuzione di stima che devo dare a me stesso in qualità diciamo di primo alla fine io mi alzo e parlo con me vado in bagno e parlo con me vado a doccia e parlo con me vado esco e parlo con me facciamo il podcast e parlo sempre con me stesso cioè sempre continuamente parlo con me stesso e quindi se io non ho un'ottima visione di me stesso è molto difficile poter raggiungere dei risultati poter ambire a fare determinate cose ma anche banalmente diciamo affilare il processo decisionale perché tu il processo decisionale alla fine quando sei sicuro di te credi nelle tue potenzialità credi in quello che puoi fare che ovviamente diciamo un ragazzo ha 22 23 anni è difficile perché ancora non ha messo tante cose una sull'altra e penso che anche tu a 22 anni ancora non avevi maturato questa visione ma adesso con il tempo col discernimento con lo studio con le domande con l'esperienza possiamo dire diciamo è anche orgogliosamente di essere i nostri eroi con orgoglio non con egoismo perché diciamo essere l'eroe di noi stessi non significa essere superiore degli altri ma essere la migliore versione di noi stessi che è quello che ognuno di noi dovrebbe ambire e anche perché ti racconto una piccola cosa io personalmente tutte le persone per me siamo tutti allo stesso livello perché? perché ci sono alcune cose in cui io sono molto migliore rispetto agli altri però ci sono tantissimi altri in cui sono molto peggiori rispetto agli altri certo nel complesso che cosa succede? ci equilibriamo tutti quindi cosa significa? questa diciamo posizione mentale che io vado ad avere con qualsiasi interlocutore nella mia vita mi permette uno di poter di non avere il timore di parlare con gli altri quindi di non dire mi sto a fare tutte queste cose no lui ha fatto queste cose io ancora non le ho fatte ma le farò quindi parliamo assolutamente prima cosa e seconda cosa quindi mi dà l'opportunità anche di poter dire la mia senza aver timore del giudizio altrui ma dall'altro lato mi dà l'opportunità da poter imparare da tutti perché quell'umiltà di dire che c'è qualcuno migliore di me in qualche cosa e io sempre cerco di trovare quella persona perché è migliore di me per poter scoprire imparare e crescere grazie a quella famosa curiosità di cui parlavamo prima a me mi dà diciamo un vantaggio in più perché tutti i giorni tutti i momenti che io mi godo sono straordinari sono momenti meravigliosi indelebili nella mia memoria che mi daranno l'opportunità veramente mi stanno dando l'opportunità di vivere una vita piena una vita ricca di tantissime cose che mi danno soddisfazione una vita di essere grati e anche diciamo dall'altro lato l'opportunità di potermi diciamo imparare dalle altre persone misurarmi e quindi creare quella cassetta degli attrezzi che prima o poi mi servirà e avere quegli strumenti giusti per poter affrontare poi quei problemi come tu ben dicevi che emotivamente non ti piacciono ma razionalmente quando ti piacciono eh a voglia perché se non ci fossero quei problemi è tutta noia bravo 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 lì mi farebbe piacere un attimino diciamo eh affrontare il discorso di uscire fuori dalla zona comfort ok che l'abbiamo brevemente diciamo citato però non ci siamo addentrati eh direttamente diciamo nei meandri di della zona comfort di quanto può essere pericoloso e quanto può essere bello uscire fuori nonostante tutte le insicurezze tutte le diciamo eh cose che non sappiamo questa nuova zona comfort dove ci porterà che ne pensi tu su questo Raffaele beh io come ti dicevo prima cioè nel senso io non sapevo l'inglese quindi mi sono buttato cioè ho studiato ho fatto il centro sperimentale mi sono buttato un'altra volta scusa un piccolo una piccola parentesi hai parlato tanto del centro sperimentale che cos'è centro sperimentale perché diciamo c'è un lessico che per te può essere diciamo è molto diciamo familiare per noi nuovi neofiti nel mondo diciamo degli attori non sappiamo di cosa si parla quindi il centro sperimentale è la scuola di cinema più importante d'Italia ok si chiama proprio centro sperimentale di cinematografia di Roma ok e ha studiato lì tra l'altro è assurdo pensare che comunque hanno scelto un'altra carriera hanno fatto un'altra carriera Raffaella Carrà Domenico Modugno Sofia Loren è stata scartata è stata scartata Sofia Loren quindi tu puoi dire che è una cosa in più di Sofia Loren Riccardo Scamarcio che dopo tre mesi però se n'è andato perché ha iniziato a fare subito tre metri sopra il cielo e poi da lì è partita la sua carriera insomma gente importante il direttore artistico era Giancarlo Giannini adesso è se non sbaglio la Rovacher se non si chiami così credo prima era Verdone è una scuola di cinema a tutti gli effetti perché c'è reparto produzione regia cinema recitazione e tre registi tra l'altro c'era Sorrentino che si è diplomato lì Paolo Virzi quindi registi di un certo calibro di un certo calibro grazie per questa bella per averci spiegato che cos'è il centro sperimentale infatti io quando mi hanno preso mi ricordo ero al Caffè Piccolo ed ero lì e mia sorella mi ha detto guarda è uscito il bando si è stato preso ho detto vabbè no non è possibile quel pomeriggio avevo una Coca Cola io ancora me lo ricordo quel pomeriggio si è trasformato tipo in un preserata in devastante cioè è diventato un preserata al Caffè Piccolo è successo un casino poi sono arrivato a casa abbiamo fatto una cena era sabato tra l'altro poi sono uscito con i miei amici io mi sentivo tipo Robert De Niro che è una scuola storica sto facendo quasi cent'anni adesso mi pare che dovrebbe fare e si trova di fronte a Cinecittà a Roma comunque riguardo sì questo grazie per averci scusate se non ve l'ho detto prima solamente diciamo per capire il contesto di quello di cui stavo parlando parlavamo della zona comfort quindi che hai imparato il francese da solo l'inglese da solo si è buttato sì è quello alla fine cioè bisogna buttarsi nella vita uscire 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 o meglio testare quei limiti che ancora non conosci sì cadrai cadrai alla fine cadrai assolutamente assolutamente però però ne vale la pena cioè perché io sono una persona ansiosa sono molto ansiosa anche se non sembra e quindi quando devo perché è bello parlare la zona di comfort da qua no qua seduti appena poi la devi affrontare e pensi mamma mia se faccio questo se faccio quello però cioè proprio guardando adesso la vita che ho fatto cioè tutte le esperienze che ho fatto di viaggi di errori di studi sul personaggio di provini di relazioni avute con le persone di ex di persone importanti per la mia vita cioè se oggi io non ho nessun rimpianto perché comunque io ho rischiato ho dato tutto quello che potevo e mi sono sempre alla fine buttato sempre qualsiasi cosa io abbia fatto perché è importante buttarsi sempre consapevolmente capendo anche quali possono essere i rischi assolutamente però alla fine oggi penso lo dico in Sicilia minchia meno male che l'ho fatto minchia meno male che l'ho fatto perché si devono fare certe cose io infatti io ho una bucket list ho fatto una bucket list ho determinate cose che devo fare prima di morire perché se no non morirò felice uno tra questi vabbè soprattutto a me piace viaggiare quindi uno tra questi è fare il cammino degli 88 templi che in Giappone sono 2000 km a piedi tra uno dei tanti questo è oppure per esempio fare la festa del cioccolato nel Costa Rica a San José oppure andare in Thailandia c'è tanti progetti grossi oppure girare il mio primo film che ho scritto abbiamo con un regista del centro sperimentale rivediamo il centro sperimentale ci puoi esploderare solo se è un dramma se è una commedia è una commedia è una commedia nera black humor black humor all'inglese all'inglese bravo bravo quindi fare questo film e poi fare i miei film e poi ho altre cose nella bucket list che però non dico non diciamo però già ne hai detto abbastanza perché ho 30 anni e ho detto le devo fare ora non è che perché uno imbecchia non le fa dopo perché per esempio l'altro giorno parlavo con mia madre e mia mamma mi ha detto però si vede che c'è 25 c'è su quell'età che ti vuoi lanciare ti vuoi buttare perché a 60 anni non so c'è una parte di me che mi porta a essere un pochettino un po' più un po' più anche le energie anche le energie diverse sono minore io infatti ho detto no io voglio arrivare a 80 anni che voglio dire ai miei figli ai miei nipoti a chi sarà tuo padre tuo zio tuo nipote ha fatto ha fatto una vita incredibile ti posso raccontare questo 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 e questo io ce l'ho pure una buchellista scriverò un libro già l'ho fatto ancora non l'ho pubblicato ah l'hai scritto? l'ho scritto il mestiere più bello del ladro bello parla dell'abbattimento delle barriere mentali ok te lo farò avere bello seconda cosa fare un film o una serie tv ok da produttore regista no non lo so vediamo però partecipare a un progetto del genere che saccio con Barsa è azione minore non lo so in che termine però fare un film sì un film o serie tv diciamo quindi il podcast come teoria diciamo per gli episodi per la longevità per la lunghezza si diciamo potrebbe incanalare in quel settore ma è una cosa diversa diciamo come identità che voglio andare a fare la terza sarà fare una canzone ok sicuramente prima o poi farò una canzone in cui o canterò o farò qualche cosa insomma però la canzone che genere non lo sai ah sai mi piace tanto il rap ah ok quindi un attimino c'è questo come diciamo a me piace il cantato donna e la strofa da uomo con il rap con il rap bello strong che cala da e quindi questo diciamo sarebbe uno stile ma ancora lì diciamo sono progetti buttati lì che però sono certo che prima o poi farò ok e queste diciamo sono le booker list come cose fisiche che devo fare però mi sono detto quando ero piccolino giù ma qual è il tuo obiettivo ma chi vuoi fare chi vuoi fare e io questa risposta diciamo non me la sono riuscito a dare con una cosa fisica diciamo andandola a individuare in un settore specifico di operatività non lo so l'attore il commercialista il conduttore di pod non l'ho individuato in questo io l'ho individuato in un altro modo l'ho individuato dicendo che io devo dare un contributo alla mia comunità ok ok è bello è bella e io non so quanto grande o piccola può essere questa comunità perché può essere la mia famiglia può essere diciamo la mia famiglia allargata mia famiglia quindi con più amici può essere la comunità diciamo il mio quartiere può essere Ribera può essere la Grigento può essere la Sicilia può essere l'Italia può essere l'Europa può essere il mondo non lo so quanto grande può essere però l'obiettivo mio è questo è qua però inizialmente mancava un tassello fondamentale che poi questo altro tassello che ora ti dico mi ha permesso di vedermi come un eroe che l'ho scoperto tramite in uno dei periodi più di crescita della mia vita perché obbligatoriamente sono dovuto uscire fuori dalla zona comfort che è stata la malattia di papà perché in dieci mesi non abbiamo scoperto durante il covid che lui aveva questo tumore terminale praticamente un glioblastoma di quarto grado solamente il nome sembra un film horror e lì ho deciso diciamo che ho capito che avevo bisogno di una mano d'aiuto e ho iniziato un percorso psicologico con una psicologia che mi ha aiutato tantissimo e che spero che venga qui come ospite al positive cast prima o poi perché mi farebbe insomma molto piacere non tanto condividere l'esperienza mia perché io la condivido diciamo in maniera spessa però poter dare permettere di dare qualche spunto di riflessione diciamo ai nostri cari amici che ci ascoltano la cosa che mi ha fatto capire è quella di credere in te stesso cioè credere in me stesso e quindi il pezzettino che mancava nel dare un contributo alla comunità alla mia comunità era nel mentre vivere una vita straordinaria straordinaria che poi lo stai facendo comunque assolutamente col podcast assolutamente con tutte queste storie diverse assolutamente la sua esperienza sì 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 alla fine sì quello è già un contributo io per esempio un'altra cosa che volevo fare che mi piace tanto cioè una delle mie grandi passioni è anche la poesia cioè mi piace tanto la poesia e scrivo anche delle poesie poi non so manco se sono poesie perché lì c'è poi il dubbio come l'attore no? dici ma ho il talento per scrivere le poesie sono poesie vabbè se le scrive capito? io scrivo dico ma potranno essere pensieri o no è anche uno dei miei sogni pubblicare dei libri di poesie però mi piacerebbe farlo girando il mondo perché ho notato che quando viaggio sono più ispirato perché quella persona che è diversa da te che ha un'altra cultura che ti dice cose diverse che ti fa il mio sogno è veramente conoscere più persone possibili di culture diverse perché quelle persone là come dicevamo prima le persone ti arricchiscono il 99% bravo e tutte quelle mazzate di culture che ti arrivano in testa secondo me quelle ti aiutano e trovi ispirazione assolutamente e quindi mi piacerebbe anche scrivere un libro di poesie e basta beh qualche poesia però la puoi recitare nei tuoi canali soggio dandoci un poco di qualche ma guarda alcune sono scritte però non so manco se sono poesie però io le ho lanciate ma tu guarda abbiamo fatto proprio un contenuto fatto e finito scrivi le poesie fai l'attore è meglio di così le metti insieme e le reciti già l'abbiamo ci ho pensato l'abbiamo impacchettato impiocchettato già è pronto a prendere a spiccare il volo è vero comunque instagram si è un un'arma cioè è proprio un'arma per poter diventare tutte le piattaforme social diciamo instagram sicuramente ma un po' tutte le piattaforme social sono sono diventate incredibili io ho notato che adesso anche molti registi se non ti trovano su internet ti guardano il canale instagram guardano che foto hai come sei tu le tue espressioni quindi quello è anche importante mantenere un canale sì in quel modo assolutamente io lo vedo come il nuovo bigliettino da visita c'è la nuova carta d'identità tu entri là dentro e c'è la tua carta d'identità e quindi vai a vedere assolutamente le cose vere che ci sono e anche lì si va a vedere se sono contenuti finti contenuti veri perché poi diciamo chi fa delle analisi un poco più chi va a vedere poi i profili in maniera professionale mettiamo tutto questo punto di vista non è più come l'utente che va a vedere ah ti seguo e quindi lo fa diciamo più di pancia che razionalmente invece che lo fa razionalmente va a vedere lì tutte quelle cose che ci sono e io un po' ho un po' di foto su facebook di queste proprio vergognote però mi piace lasciare e mi piacerà e mi piacerà fra non lo so 15 anni quando quando sarò diventato avrò raggiunto non lo so dove sono arrivato avere queste foto insomma che ricordano si frate peppe non è che faccio questo anche questo io pure io pure ce li ho io pure ce li ho bellissimo intanto le faccio vedere la mia ragazza quindi andate a stalkerare il profilo del buon raffaele andate a scoprire qualche chicca particolare mi dice sempre mamma mia ma quanto eri zarro zarro significa quanto eri coatto ecco coatto si si benissimo cari amici abbiamo detto gli eroi li possiamo elencare nel palmo della mano del buon raffaele abbiamo mamma papà no mamma nonna mamma ma anche papà quindi genitori genitori nonna camilla camilla ex fidanzata sofia robert de niro tu io e questi diciamo sono quegli quegli eroi fissi vivi che tu diciamo puoi avere quelle persone ordinarie che fanno cose straordinarie e poi ci abbiamo robert de niro e mattio mcconaghi che ti hanno ispirato la tua la tua carriera ma sono arrivati loro dopo la tua decisione di fare l'attora dopo robert de niro durante cioè nel senso mentre io stavo scoprendo come dicevo prima la recitazione io vedevo film di deniro perché mio padre mi piaceva pure tanto quindi vedevo tanto tutti li ho visti praticamente e poi da lì nel frattempo ho scoperto quella roba là e poi ho seguito robert de niro insomma sempre quindi sì è come un nonno un nonno artistico un nonno che ti dà le lezioni artistiche ecco sì bellissimo e poi me stesso perché comunque tutta sta roba l'ho creata io non è che l'ho creata ma non è proprio veramente non è una questione di ego è proprio una questione di capisco benissimo cioè io secondo me gli eroi si può essere eroi in due modi o quando te lo attribuiscono gli altri o se sei il protagonista del tuo film se tu sei il protagonista del tuo film a voglia ossia il tuo film indeso come vita sei un eroe perché riesci diciamo appieno a diciamo prendere tutte quelle come ti posso dire piccoli elementi che vanno a rappresentare quel quel protagonista in maniera consapevole però non in maniera inconsapevole consapevole e questo ti rende un eroe oppure quando te lo attribuiscono gli altri perché non lo so hai salvato la bambina che si trovava non lo so e quindi viene attribuito agli altri però secondo me vedersi come degli eroi sicuramente diciamo è una bellissima cosa è una bellissima cosa ma quando è bello tagliare se lo specchio tutti i giorni mi guardo allo specchio nel più piccolo io le ho fatte quelle cose capito bravo e poi mi dico ogni giorno mi guardo allo specchio ma anche arrivare a sto podcast se io oggi sono arrivato a sto podcast per dire perché comunque ho fatto le mie esperienze grazie a te assolutamente e tutte quelle robe che ci sono successe prima assolutamente però per arrivare a questo piccolo successo ci sono stati un sacco di successi di errori di batosse per esempio oggi è così cioè ragazzi oggi io noto che a parte che c'è una soglia dell'attenzione molto molto bassa e poi almeno a Roma è così i ragazzi proprio non hanno non sono stimolati a fare a fare delle cose ecco non hanno la forza però voglio ricordare il Raffaele che non voleva uscire di casa eh no assolutamente capito è dove è arrivato eh sì quindi lanciamo una lancia in favore dei ragazzi ragazzi quello è vero che ancora non hanno avuto l'opportunità di poter fare quell'esperienza e capirlo perché tu adesso ti sei elevato però ho avuto le possibilità però ho avuto le possibilità tra gli esempi i miei genitori che me l'hanno permesso già una cosa certo va tu le ascolta Raffaele se tu lo volevi fare l'avresti fatto no 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 a prescindere di quello di come ti dicevano gli altri cioè se tu lo volevi fare in un modo in un altro lo trovavi lo trovavi perché sì sì io questo io questo mi immagino cioè io quando ho iniziato a fare video ti sembra che mia mamma mia ma che sta facendo tutti tutti mi tagliavano amici cose ma tu sei fuori capito ora però la follia mi ha portato qui a essere ascoltato da tante persone a raccontare persone straordinarie che mi danno tanto piacere diciamo nel fare queste conversazioni quindi trovo veramente un grandissimo piacere nell'arricchirmi ogni volta tramite il podcast scoprire persone sfaccettature di persone che comunque noi per quanto ci conoscevamo entrambi sapevamo un poco dell'altro ma niente però non avevamo fatto tutta questa chiacchierata una denza chiacchierata proprio dove ci andavamo a buttare la vita ci siamo raccontati capito capito no però è vero questa cosa cioè spezzare la lancia contro però come diceva Calimberti lui diceva vabbè troppo nichilista io lo amo io lo amo lo amo Calimberti su tutto quello che dice del passato ok ma sulle sue visioni del futuro si vede che una persona veramente che ha avuto difficoltà è morta la moglie è stango è vecchio però su determinate cose cioè io penso perché comunque ho notato che oggi cioè se usciamo o fumiamo o beviamo e ho pensato ok io per esempio domenica sono uscito sono andato al preluna non ho bevuto e una mia amica mi ha detto ma che hai oggi perché non bevi e tu è Elena Elena si chiama Elena Elena Salzano la conosci no certo salutiamo Elena perché ho fatto serata ieri e quindi non posso bere oggi però mi sono reso conto che effettivamente in quella domanda c'era tutta la nostra società cioè perché dobbiamo perché comunque beviamo diciamola tutta tutte le feste girano intorno all'alcol non si può dire di no e se fossimo tutti sobri non so come potrebbero essere le serate e mi chiedo perché i ragazzi bevono perché e per esempio ho sentito un discorso dei Galimberti che diceva i ragazzi oggi bevono perché non è più l'Italia di una volta cioè non è l'Italia del boom economico non è l'Italia che ha quella possibilità del lavoro oggi c'è troppa concorrenza ovunque e i giovani secondo lui e anche secondo me un po' non totalmente non vedono il loro futuro o meglio lo vedono molto molto poco nitido e questa cosa qua ti porta anche ad affrontare i problemi la noia la frustrazione secondo me con delle sostanze abbastanza ma inconsapevolmente inconsapevolmente allora sono parzialmente d'accordo con te però adesso andiamo a fare una riflessione insieme la prima è che cosa gli abbiamo insegnato noi a questi ragazzi eh lo so lo so prima cosa quindi prima di additare il dito verso gli altri ritorniamo alla famiglia no io sono sempre di additarmelo io il dito ok capito prima di denigrare gli altri che esempio do io intanto a queste persone perché quando mi vedono mi vedono col bicchiere in mano quindi dici se Giuseppe se lo beve allora no ma infatti io mi sono messo in primis ecco prima cosa ma non parlo direttamente di te seconda cosa cioè pure nella Bibbia c'è scritto che nelle feste ci vuole il vino ci vuole il vino cioè tu immagini il miracolo delle nozze di Cana quando Gesù ha trasformato l'acqua in vino sì 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 quindi cosa ci fa capire che già ancora prima di duemila anni fa era questa la festa era questa per l'essere umano perché un po' la festa è quando tu esci fuori dalle righe dall'altro lato ti dico è vero sì che il buon professore Calimberti parla e che dice che prima c'era un'altra società un'altra cosa ma ti ricordo che negli anni 80 in Sicilia cioè si inizia con le pistole eh lo so lo so adesso non esiste più no ma infatti te ne dico un'altra quando uscivamo noi quando eriste c'era nel sabato sera tantissime e adesso quando ne vedi più in giro pochissime ma lo so c'è quella tensione c'è quella tensione però non si litigano no no non si litigano e questo qua adesso facendo tutta questa diciamo rianalizzando il problema da questo punto di vista secondo me meglio sto andando stiamo andando a migliorare secondo me stiamo andando a migliorare uno perché tutti abbiamo molta più cultura e la cultura ci porta a crescere due noi siamo figli di un esperimento sociale che è internet che ancora non abbiamo abbastanza metriche per poter capire quali sono le best practice o per poter ti faccio un esempio della macchina giusto la macchina inizialmente che c'era cintura di sicurezza che c'era c'era airbag che c'era la macchina che c'erano regole segnali stradali poi dopo crescendo tante persone cose per un'organizzazione migliore quindi una salvaguardia e poter ci sono andate facendo dei regolamenti che ci permettono di vivere in maniera organizzata e ordinata la stessa cosa vale con internet al momento noi non abbiamo avuto modo di poter capire qual è la cintura di sicurezza e infatti stiamo arrivando al down e per risalire capito per risalire ma il down vedi che non è dato dai ragazzi perché ci dobbiamo ricordare sempre che noi no lo so lo so però diciamo qual era la cosa che diciamo questi ragazzi bevono per dimenticare ma io ti dico invece che loro bevono perché noi li abbiamo insegnati a bere come i nostri andenati ci hanno insegnato a bere che per bevendo è una sorta di emancipazione c'è sempre stato è una sorta di emancipazione sociale che ti porta diciamo ad essere più grande di quello che sei no però io te lo dico sai perché ho noto anche quando per esempio a casa nei momenti di noia a Roma a me piace il whisky ogni tanto mi bevo qualche goccetto di whisky però analizzandomi perché a me piace analizzarmi ho notato che io bevo il whisky quando c'è un attimo o di frustrazione o di noia perché se io sono entusiasta per esempio faccio un viaggio per esempio sono andato in Marocco con la mia ragazza dieci giorni abbiamo fatto un road trip con la macchina a parte che l'alcol è impossibile da trovare ma a parte questo io non avevo voglia di bere cioè quindi ho detto quindi vuol dire che qualcosa parte dalle emozioni forse assolutamente assolutamente senza dubbio però dall'altro lato dimmi tu quali sono i luoghi di aggregazione dove andiamo gli alcoli fix ma questo qua ma ti dico cosa c'è oltre questo ma io volevo organizzare un capodanno senza alcol per gli under 18 quindi mettendo mettendo la fontana di cioccolato mettendo i lecca lecca giupa giups giganteschi che tu entravi e ti potevi mettendo tutte le cose di caramelle facendo le bibite con i frullati fatti sai che mi disse sono già alcol ma noi gliel'abbiamo insegnato lo so gliel'abbiamo insegnato noi come a noi ce l'hanno insegnato gli altri questo è quello che tu hai però secondo me parte anche tutto da un'educazione come cresci cioè pure secondo me la famiglia lì fa affare che comunque dipende con chi cresce dipende con che come cresci perché tutti i tuoi problemi che ti ritrovi da grande te li ritrovi perché una metà no una metà un pochettino te li hanno comunque lasciati i tuoi 100% le loro paure 100% però come dice il buon Bonolis noi siamo più vicini più simili ai nostri tempi che ai nostri padri ok ok si ci può stare e se tu ci pensi diciamo sicuramente hai tantissime tuoi papà ma hai molte più cose in comune con me che con tuoi papà voglia cioè nulla togliendo diciamo no perché abbiamo la stessa siamo nella stessa era siamo negli stessi tempi capito abbiamo le stesse cose le tecnologie però si effettivamente ritornando all'alcol l'alcol è una cosa che c'è che c'è sempre stata però secondo me ci sono anche diversi motivi come dicevamo prima tante sfumature ma sai te lo dico da bevitore a me piace tanto il vino mi piace tanto il whisky ho comprato per Pasquetta un sacco di vini biologici te lo dico perché mi piace proprio il vino però noto che effettivamente secondo me c'è qualcosa che comunque perché dico cosa c'è perché io vado a Trastevere ultimamente Trastevere prima c'erano le paninerie ora è soltanto alcol quindi mi chiedo noi al di là dell'alcol e il cibo perché poi quando vai al ristorante ti piace perché ti sfugni ti piace mangiare che cosa siamo in grado di fare cosa ci piace tipo adesso ci stiamo passando una bella giornata con questo podcast già è un hobby è un'attività diversa cosa possiamo fare recitare fare uno spettacolo cosa c'è di costruttivo per il limite l'immaginazione per distruggere l'ignoranza capito perché molti anche bevono per ignoranza capito o per sentirsi socialmente sicuramente dentro diciamo compresi o anche per abbattere quelle diciamo barriere che ci sono per poter trovare un poco di come ti posso dire per trovare la donna della serata o l'uomo della serata o l'uomo o l'uomo della serata però sotto questo punto di vista diciamo io veramente ci ho riflettuto tantissimo ma veramente tanto e l'alcol è una della parte storica cioè più comune che ci è sempre stato capito quello è vero cioè che ti a dire c'è stato più l'alcol banalmente che la ruota sì nell'esigenere ma da sempre lo usavano come anestetizzante prima capito capito quindi non possiamo noi vedere vedere di pensare di eliminarlo no no io non lo sto demonizzando no 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 l'ho capito per ora diciamo in senso ampio quando si parla tutti vivono fanno dicono no c'è sempre stato c'è sempre stato è storia è storia no assolutamente capito la differenza qual è che tu con tanto ci guadagni tanto capisci e quindi questo qua ti porta poi a chiudere le paninerie perché ti ammazzare la vita e a fare in ghiere bicchiera perché te lo ammazzi molto di meno la vita molto di meno capito e ci guadagni perché girano mio padre aveva il merò prima una decina di anni fa e i soldi giravano questo è questo è molto più semplice rispetto alla restaurazione assolutamente assolutamente quindi ti dico e poi l'altro messaggio è spezziamo la lancia in favore delle nuove generazioni quindi guardando gli aspetti positivi e diciamo cercando di guardare per le cose che vanno male non a quelli piccoli ma a quelli grandi quello che ci hanno insegnato a noi a fare male e noi come possiamo cambiare per dare un giusto esempio a quelli piccoli eh certo quella voglia ma io infatti mi sono fatto sempre ho scritto una cosa pure per riguardo questa situazione qui cioè che io da quando ho iniziato a cambiare ecco ho pensato cioè se io domani avessi una bambina o un bambino cioè io voglio che cresca nel migliore dei modi possibili quindi come posso fare per fare in modo che lei cresca bene o lui cresca bene cioè io devo essere bravo a posto con me stesso certo certo perché cioè già che oggi insegnamento si dà per esempio e molte volte secondo me bisogna essere prima consapevoli e poi uno sposarsi e due mettere al mondo dei bambini ma sai io vedo tante coppie diciamo che lo fanno cioè si sposano perché la società dice che in questo momento della vita devi fare questo devi fare questo poi un annetto due mesi tre mesi e c'è il divorzio ma anche se non c'è il divorzio però ci sono tanti momenti di incomprensione ci sono tanti litigi cioè io personalmente al momento sono single dico ci sono un sacco di donne straordinarie che ho frequentato però non ho trovato quella cosa giusta no ma è bravo per poter dire chissà chissà e quindi fare quel commitment assolutamente tale che merita ma anche perché brevemente ti dico cioè io sono certo che mi impegnerò al massimo a migliorare la vita a qualsiasi donna si mette diciamo condivida condivida per parte della sua vita breve lunga che sia con me non è un beneficio per tutti in che senso? che non è un beneficio da diciamo dare gratuitamente ah ok 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 perché un commitment di questo genere con per come lo vedo io dell'impegno che ci metterò diciamo al fine di poter migliorare la vita della mia compagna come lo faccio un po' con mia mamma con i miei fratelli con un po' tutte le persone che mi stanno vicino non è un beneficio per tutti e quindi diciamo una cosa di cui sono abbastanza geloso e che tengo tengo molto diciamo a riservare a quella persona a quella futura compagna che poi che poi ci sarà poi deve essere una persona anche intelligente per poter dare il beneficio e capire anche quando tu gli stai dando beneficio perché comunque magari una cosa che apparentemente sembra negativa in realtà è una cosa positiva assolutamente 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 e tu diciamo leggendo fra le righe nei due rapporti di cui hai parlato diciamo principalmente con Camilla e Sofia una cosa che fate fate e facevate in maniera molto importante era passarvi il tempo insieme sì e io ancora diciamo il mio metro di misura non è legato né alla bellezza né proprio a quanto qualitativamente ci passo bene il tempo qual è la qualità cioè perché banalmente al momento diciamo fossi tu una zita per quanto per diciamo la sinergia che stiamo trovando negli argomenti i punti di vista che stiamo condividendo eccetera piuttosto che diciamo sì ma è quella roba là che si parla dell'ignoranza cioè dell'inconsapevolezza ignoranza che poi non è una parola ignoranza che ignorano tante cose e quindi la ignori sì ma infatti cioè in partenza con Sofì e con Camilla l'ignorante ero sempre io cioè io ho avuto la fortuna di trovare donne sempre migliori di me questa è stata la mia fortuna che mi hanno insomma fatto fare il change ecco e quindi sì quello quello che mi ha aiutato un botto e poi capire avere l'intelligenza che mentre una magari ti sta rimproverando in realtà ti sta dicendo qualcosa che è importante assolutamente quindi non prenderla sul personale ma proprio analizzare la critica per quello che è ricordandoti che ti vuole bene principalmente è che diciamo lo fa per il tuo bene assolutamente sì poi al di là cioè non mi interessa manca a me la bellezza le cose cioè l'importante è la qualità del tempo con quella persona cosa ci stiamo dando bravissimo ecco bravissimo 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 che non si può ridurre solamente al che fai sto guardando la tv bravo all'aperitivo facciamo le stesse cose il sabato una domenica andiamo al bullying no non si può ridurre all'andare a cena ogni volta che dobbiamo uscire cioè veramente ci deve essere una qualità proprio bravo cioè facciamo questi stimoli così facciamo un viaggio bravo facciamo sta cosa siamo andati a Berlino siamo andati in un bar siamo andati tipo alle 13 siamo entrati a questo bar che era Millaker mi pare che si chiama che di sera 3 di notte no 3 di pomeriggio 3 di pomeriggio siamo usciti alle 8 e mezza voi due sole io lei e una sua amica ok finiti completamente finiti mi sembra giusto e poi siamo andati in giro siamo andati in discoteca cioè comunque devi trovare anche delle cose in comune con quella persona cioè non puoi stare ogni 3 ore mi vado a sciarrare no anche la gelosia per esempio lei è una persona che si fida tanto di me nonostante il lavoro che faccio comunque per esempio l'ultimo cortometraggio che l'ho fatto l'ho fatto con Leonie che è una mia amica tedesca lei molto probabilmente cioè con tante probabilità si poteva ingelosire no? quante erano le probabilità che si potesse ingelosire? tante ma in realtà lei non gliene frega niente perché si fida di me vabbè ma da l'altro lato anche tu ti fidi di lei ma io mi fida lei è in India da quanto tempo? lei è in India da già una settimana capito? si andrà a fare l'Holly Fest e sarà un'altra settimana si capito? è importante sta roba qui infatti è bello poter fare anche viaggi in solitaria anche io quando ero a Zante io ero partito per Zante e lei se n'era andata in un'altra isola in Grecia che era tipo di fronte alla mia ma eravamo separati ognuno per i fatti suoi perché comunque ci deve essere anche la libertà bravissimo bravissimo quello sì alla grandissima raga alla grandissima raga alla stra grandissima e allora cari amici con questa bella zuppa di parole e di bombe di riflessione si conclude la seconda parte del nostro Positive Cast della ventitresima puntata con il nostro grande Raffaele Taddei e io vi dico cari amici alla grande e ci vediamo fra poco cari amici benvenuti alla terza parte del nostro Positive Cast POV punti di vista point of view POV significa in inglese andiamo dritti al sodo così non andiamo a consumare minuti di registrazione e vi andrò a elencare gli otto punti che è la nostra ruota della fortuna che rappresenta l'imprevedibilità dell'esperienza umana andrà a decidere su quale noi poi andremo a discutere con il grande Raffaele Taddei e allora troviamo al primo punto abbiamo l'improvvisazione al secondo punto abbiamo mai dare retta ai genitori al terzo punto abbiamo la lettura al quarto punto abbiamo l'importanza della libertà al quinto punto abbiamo teatro versus cinema al sesto punto abbiamo sei sicuro del tuo posto fisso al settimo punto abbiamo la giornata dell'attore e all'ottavo punto abbiamo vincere un provino e adesso caro Raffaele prego gira la ruota numero 3 la lettura bellissima chiacchierata con una persona che divora i libri piuttosto che leggerli ci vediamo fra poco cari amici ci ritroviamo qui in questa terza parte punti di vista dove andremo a sviscerare questo punto che la nostra ruota della fortuna che rappresenta l'imprevedibilità dell'esperienza umana ci ha scelto ossia la lettura quindi caro Raffaele parlacci un po' di che cos'è per te la lettura allora la lettura innanzitutto per me è un esercizio che è stato fondamentale per studiare la dizione cioè perché noi attori giustamente dobbiamo fare dizione parlare in un certo modo con tutte le vocali messe a posto le esplosive insomma tutte le lettere perché comunque noi siciliani abbiamo una cadenza bella abbastanza bella forte e poi comunque un esercizio fondamentale anche nella d'impronta c'è nella lettura delle battute cioè quando tu leggi un copione o leggi un te cioè leggi un copione proprio per esempio in America fanno questa roba qui che nella fase iniziale durante il copione il primo provino è la lettura del copione cioè quindi come leggi tu all'impronta in Italia non c'è però in Italia per esempio quando ti chiedono la lettura d'impronta a teatro soprattutto e quello è fondamentale infatti alla Silvio D'Amico che è un'altra accademia importante d'Italia c'è la prova della impronta di lettura all'impronta lettura all'impronta significa diciamo prima lettura che tu vai a qualsiasi testo prima lettura fresca cioè tu non sai nemmeno di cosa sta parlando il testo poi quando vai a leggere tipo in chiesa che vai a leggere il Vangelo qualche prova c'è magari del Vangelo ogni tanto sì ogni tanto sì invece là no è proprio una lettura d'impronta quindi anche un esercizio che faccio costantemente ogni giorno per mantenermi in allenamento ecco sia per l'addizione perché comunque quando sei qua parli siciliano è giustamente perché gli altri l'influsso ti porta poi diciamo a storpiare un attivino ed abituarti e poi la lettura per me come ti dicevo prima è stata fondamentale insieme alle persone insomma che mi hanno aiutato a scoprire nuove cose nuovi punti di vista visioni del mondo completamente diverse dalla mia da come vedevo il mondo prima e soprattutto io leggo libri di crescita personale o di psicologia ci vuoi parlare di un libro in particolare avevi parlato di quello di Matthew McConaughey allora Matthew McConaughey se ce n'hai qualche altro libro in particolare ne ho tantissimi diciamo uno che ti ha lasciato e ti ha fatto cambiare il tuo point of view visto che stiamo parlando allora Matthew McConaughey sì perché comunque è stato un libro dove lui parla tantissimo dei semafori cioè lui parla la vita come se fosse un semaforo verde ok puoi affrontare il problema semaforo giallo forse puoi affrontare il problema ma c'è un bel rischio rosso hai un bel rischio nell'affrontare quella roba là no ed è bello come lui affronta la vita ritornando sempre al discorso del rischio dell'uscita dalla comfort zone di come lui faceva i viaggi di come era stato come è stato cresciuto dalla sua famiglia e di come faceva tutto quello che gli piaceva fare cioè era un'anima libera ecco ed è ancora oggi un'anima libera secondo me e quindi era bello vedere questo questo senso di libertà di essere una persona che gli piaceva e che gli piace fare quello che sta facendo ecco no perché segue la sua passione è libero adesso è ricco quindi insomma può fare quello che vuole è stato un libro interessante perché mi ha permesso di rischiare di più nella vita ecco poi c'è stato un libro seguo tanto lo psicologo Paolo Crepe non so se lo conosci io non ho letto io non ho letto nessun libro però seguo tanti tanti dei suoi monologhi tanti dei suoi interventi Paolo Crepe è una persona che ha capito molto molto bene come funziona il mondo ho visto sì ho visto anche la sua conferenza a Roma tre settimane fa che ero pure in prima fila il bietto l'avevo comprata ad agosto addirittura ho il suo libro autografato ed è bello come lui parla cioè la cosa bella di lui è che ti fa capire tante cose di te proprio dal punto di vista ok io vengo da questa famiglia ora oggi capisco perché oggi ho questi problemi qui perché ho avuto questi problemi perché ho queste gabbie mentali per questo e quindi è stato bravo a scoperchiare una pentola che non capivo da solo ok ok quindi dandoti quegli strumenti per poter fare un'analisi e poter elaborare quelle che sono le situazioni che stai vivendo attualmente partendo però dal background quindi non focalizzandoti sul momento perché magari è un problema che non vai a vedere ma vedendo il problema nella sua interezza sì sì per esempio secondo me cioè per dirti è un esempio che faccio di mio padre o di mia madre ma non perché voglio dare una colpa a loro per esempio io quando ero grasso c'è la cosa che mi diceva mio padre che correva tantissimo andava in palestra mangia la frutta mangia la frutta basta mangiare così guarda che panza che c'hai guarda che panza che c'hai questa roba qui già ti fa sentire in colpa e ti fa sentire sbagliato con te stesso questa cosa da piccolo ripetuta ogni giorno crea una sfiducia in te stesso che ti porta a non avere quella fiducia in te stesso che ti porta a chiuderti nel nido che mi ha riportato durante l'adolescenza a ingrassare e a rimanere a casa tutte queste cose che poi ho fatto inconsciamente di darmi da fare le ho scoperte poi capendo anche alcune cose attraverso i libri di Paolo Crepe e lui infatti parla tantissimo dei genitori di come dovrebbero crescere un figlio dell'importanza della scuola dell'importanza dell'insegnante io per esempio oggi l'inglese l'ho dovuto studiare facendomi un sedere così perché perché aveva un insegnante che non era capace di insegnare l'inglese tanto che oggi per esempio vorrebbero mettere la prova di psicologia cioè l'insegnante quanto è pronto ad empatizzare ed essere con l'alunno quella è una cosa fondamentale secondo me no? e Paolo Crepe cita tutte queste cose come dovrebbe essere un insegnante dall'asilo nido fino alla laurea e poi parla insomma della nostra Italia che non è vero che ci sono tutti raccomandati che se sei un grande diventerai un grande che se meriti il posto meriti il posto ed è una persona anche che stimo perché è un ribelle cioè nel senso lui non cerca il consenso da nessuno e anche io non cerco il consenso da nessuno perché io so quello che voglio so dove voglio andare e basta quindi c'è chi mi ama mi segue e io seguo chi amo fine punto il resto è solo fuffa la gente non me ne frega niente delle chiacchiere ecco no? tanto che quando l'ho conosciuto a lui hai avuto modo di parlarci? sì sì ci ho parlato ma tipo tre secondi perché c'era una fila di persone quando mi ha fatto l'autografo però lì anche si vede diciamo l'animo della persona io ho avuto la sensazione che ho fatto una faccia a lui come se se volessi il consenso da lui come se volessi un autografo volessi essere un po' coccolato che a lui mi ha guardato un attimo così questo è l'autografo ti è basta cioè mi ha guardato come per dire non so se è stata una pippa mia mentale però si capisce che è una persona che è vera cioè non è che perché tu gli stai andando a chiedere l'autografo questo ti sorride ti coccola fa il piacione è una persona così basta fine non cerco il consenso proprio da nessuno lui è Paolo Corbet ed è così io sono Raffaele Adesso così e per esempio io tra un altro libro che ho letto sono tutti libri di Gianluca Gotto che non so se conosci che lui è un ragazzo che praticamente anche lui era disperato stava viveva a Torino ma non trovava il suo posto di lavoro perché non sapeva cosa fare dalla vita così si è trasferito in Australia ha iniziato a lavorare là però poi per problemi di salute che hanno avuto uno dei suoi parenti è dovuto ritornare in Italia no in Australia erano finiti totalmente soldi è dovuto ritornare in Italia poi si è ritrasferito in Canada e in Canada i suoi hanno avuto dei problemi di salute non so se erano i suoi insomma ed è ritornato in Italia quindi lui era pronto a fare il panificatore pur di stare in giro per il mondo cioè pur di uscire dall'Italia perché lui non si trovava bene in Italia poi ha scoperto che lui piaceva tanto leggere questa lettura poi l'ha fatto in modo che diventasse scrittura è iniziato a scrivere il suo primo blog scrive lavorava per un'azienda e il suo sogno era viaggiare per il mondo e lavorare da remoto e facendo così lui praticamente adesso scrive romanzi fa la sua vita ma perché a me quel libro mi ha colpito tanto i suoi libri mi hanno colpito tanto perché dietro c'è una sorta di ribellione cioè non ascoltare mai nessuno ma ascoltare solo te stesso per raggiungere i tuoi sogni e i tuoi obiettivi e per esempio in comune io con lui ho il viaggio cioè io sono sessionato se ho cinque minuti io devo partire cioè devo andare in giro e quindi lui per esempio è un'altra persona che mi ha aiutato a vedere anche la vita in un certo modo e poi tanti libri sulla spiritualità molto molto particolari tipo conversazione con Dio si chiama questo libro che è di Neil Donald Walsh che è un cristiano che sto parlando a ruota vai 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 è un piacere ascoltarti Raffaele sto cristiano ha avuto se non mi sbaglio tipo era era un barbone cioè perché gli hanno pignorato tutto insomma ha avuto problemi è rimasto in mezzo alla strada ha fatto il barbone e lui non capiva perché dopo tanto successo era era diventato un barbone cioè come ha detto come mi sono ritrovato ad essere ricco e ad essere adesso in mezzo alla strada e lui dice che ha avuto una conversazione con Dio cioè lui diceva il mio cervello ha iniziato a parlare da solo quelle parole sentivo che le dovevo scaricare le ho scaricate e ho scritto tre manuali e che è come se fossero praticamente alla nuova Bibbia ok e se tu leggi il libro è impressionante le cose che dice lui giustamente diceva che parlava con Dio ora non lo so però le cose che dice sono veramente interessanti dove per esempio c'è non sono nazista o fascista però c'è un pezzo dove lui dice e se vi dicessi che Dio adesso mi ha detto che Hitler è stato nostro amico per l'umanità e io ho detto ma che cacchio sta dicendo poi ha spiegato e ha detto ci avete fatto caso che voi risalite sempre quando andate nel down l'umanità è andata nel down ed è risalita dopo quella tragedia assurda che è successa che non dovrebbe mai succedere però lui ha spiegato io non sto con Hitler non sto dicendo che stiamo con Hitler sto semplicemente semplificando un concetto che è vero cioè tu quando è che riesci finalmente a trovare l'energia quando vai nel dolore quando vai nel down assolutamente e per esempio adesso nella situazione in cui ci troviamo dobbiamo per forza arrivare in fondo per capire che stiamo affondando tipo Gaza tipo tutte le cose che stanno succedendo covid e quella frase mi ha colpito mi ha colpito però effettivamente se non la razionalizzi un po' dici ma questo è pazzo assolutamente ma sai la bravura di chi legge tanti libri e poi quella anche di riuscire a leggere fra le righe cioè quindi andare a carpire quello che è il messaggio più profondo che ci vuole dare l'autore non solamente legandosi al significato mero delle parole ma guardarle un po' più distaccati nella sua interezza e nella comprensione poi di tutto il libro quella frase ha un senso si ha voglia capito? cioè devi leggere tutta la roba capito quello che ti voglio dire quella frase in un libro antisemita quella frase ha un altro senso completamente diverso da quello che tu ci hai raccontato si si ed è un libro esistenziale cioè per esempio lui dà una visione dell'esistenza del mondo dove spiega determinate situazioni che sono complicate è un libro particolare perché lui dice per esempio io te Gabriele noi siamo atomi di Dio dove messi insieme creiamo una sola cellula e la cellula è Dio e noi perché siamo su questa terra secondo lui noi siamo in questa terra perché ognuno di noi ha una sua missione questa missione è capire secondo lui come affrontare cos'è la gioia di vivere cos'è la vita in sé capito e secondo lui dice che il Dio il Dio è l'universo cioè l'universo non esiste una figura Dio cioè non esiste un santo non esiste secondo lui sempre esistono solo gli universi le cellule l'universo e quindi l'energia universale tanto che lui faceva l'esempio se tu vedi un tuo atomo è uguale all'atomo che c'è in un altro pianeta certo quindi lui diceva siamo tutti uno e se siamo tutti uno Dio è l'universo e attraverso noi piccoli atomi sta cercando di manifestarsi e sta cercando di capire cos'è la vita attraverso di noi per poi ritornare dopo la morte a ritornare nel posto in cui eravamo ora è un concetto molto difficile assolutamente assolutamente però è interessante molto interessante anche perché noi facciamo tante riflessioni sulla morte ma non riflettiamo mai su quello che c'era prima della nascita prima della nascita sì sì cioè che cosa c'era prima della nascita eravamo morti non lo so sicuro non eravamo vivi boh non lo so sbaglio no sicuramente non eravamo vivi o forse crediamo nella reincarnazione boh non lo so c'è troppo c'è troppo mistero capito assolutamente ed è l'unico libro che penso che ti dà una spiegazione che potrebbe essere plausibile però comunque ti dà diciamo degli spunti di riflessione un po' diversi rispetto a quelli a cui siamo abituati al nostro dogma sì a voglia diciamo culturale e da lì partiva la legge della vibrazione la legge dell'attrazione perché lui spiegava se noi siamo atomi e quindi c'è la forza negativa la forza positiva se noi cerchiamo vogliamo attrarre una cosa se la immaginiamo la manifestiamo e proviamo le emozioni come come se fossero state come se fossero accadute di già e tu quelle cose prima o poi le attrai allora io sta cosa ho detto ma non ci credo ti giuro io mi sono scritto ho fatto una lista delle cose che volevo fare e queste cose ti giuro oggi dopo che ho provato a fare questa legge di attrazione si sono verificate cioè sono sono successe cioè volevo fare il mio primo film ad antagonista l'ho fatto a Pantelleria l'ho fatto volevo un certo quantitativo di soldi sul mio conto sì ce li ho adesso volevo andare volevo trovare la mia ragazza per viaggiare ho conosciuto Camilla e io con Camilla ho fatto praticamente viaggi in tutto le ho scritte tutte queste cose le ho scritte le ho scritte volevo fare un viaggio particolare l'ho fatto ma le hai scritte una volta solo e ti sei conservato quel no le ho scritte quel foglio oppure le ho scritte le ho pensate so che sembrerò pazzo però vi giuro che cos'è stai tranquillo sei molto sereno di mente se stiamo parlando di questi argomenti cioè le ho scritte le ho provate a manifestare cioè quindi immaginando la sensazione e l'emozione proprio poi le ho posate perché poi ho detto non ci credo perché comunque sono stato tre mesi a fare sta roba e non si realizzavano un anno dopo perché poi c'è un'altra legge dell'attrazione che è la legge del lasciare andare assolutamente perché quando tu spingi 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 poi devi lasciare andare bravo io ho lasciato andare ma inconsapevolmente perché non ci credevo più ho detto vabbè chissà se succederà l'anno dopo è successo ho detto no cazzo cioè sono andato a rivedere la lista dico ma porca puttana ho realizzato tutto dici ok vabbè tu ti sei impegnato hai fatto i sacrifici hai fatto i provini tutte le cose ma obbligatoriamente ma obbligatoriamente certo non è che ti può cadere dal nulla ti deve impegnare bravo bravo infatti secondo me una delle leggi più importanti legate alla legge dell'attrazione non è non è quella di aspetta bifaracademi in mucca sì infatti ma è quella di fare tanto lavoro senza pretendere nulla in cambio sì perché tu sai che sei sulla retta via e quella quella strada quella porta si aprirà ti porterà là questo è questo è sì sì e in più l'altra parte della legge dell'attrazione che secondo me è molto 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 importante e io personalmente la vivo come ne parlavo nello scorso episodio con Erika dicendo che io quando parto da casa mi immagino già di trovare il parcheggio nel posto là davanti visualizzando e lo trovo mi immagino di trovare il semaforo verde e lo trovo mi immagino queste cose e succedono vero quindi è la prova che esiste questa roba capito te ne racconto un allucinante una volta mi sono detto mi arrivano sempre posta sempre notizie brutte ora sicuramente nella posta mi arriverà una bella notizia e mi arriverà un bel ammontare un ammontare di denaro per una volta così da ora in poi andrò a prendere la posta con gioia ma arrivano 11 euro di rimborso da parte della team in un assegno vedi no ma è assurda ma tu immaginati se ti arrivano i soldi per posta e mi arrivano e da lì infatti e se poi stai nel turbine delle lamentele diventa peggio sempre più problemi ci sono più problemi e infatti da lì dopo che ho avuto questa prova mi sono detto perfetto giù visto che è così diamoci una scadenza diamoci un bel obiettivo e l'obiettivo lo sai qual è 2030 10 miliardi di euro e già io ho manifestato e ho visto e so cosa farci anche con questi soldi e parlare con 5 milioni di persone insieme non so se sarà di presenza se sarà online però questi due sono quelle cose che io ho scritto come hai fatto tu diciamo e ti portano a assolutamente assolutamente è vera sta roba cioè è impressionante quello che ti volevo dire diciamo qual è la parte diciamo reale di tutto ciò oltre al metafisico qual è che il nostro cervello è programmato per darci sempre ragione quindi se tu ti lamenti sempre il tuo cervello è portato a darti ragione e quindi a trovare nuovi modi per lamentarti sì è vero se tu invece ti lamenti di meno e sei proattivo e cerchi di fare diciamo ti dai una lista il tuo cervello farà in modo di farti vedere quelle cose che tu vuoi andare vuoi andare ti stai dicendo ma proprio un bias di conferma che si dice ne lo parlavamo l'altra volta anche con la grande Erika che ovviamente questo bias di conferma il nostro cervello ci conferma sempre quello che noi vogliamo quindi sta a noi in maniera proprio ingegnerizzata quindi ingegnerizzare le parole che noi utilizziamo con noi stessi raccontandoci una storia bellissima al fine di indurre il nostro cervello sfruttando il bias di conferma a darci le conferme verso quello che ci migliora la vita non verso quello che c'è la peggiora cioè giustamente ci sono i momenti di down normale ma ci sta però però culturalmente non siamo propensi a pensare in positivo ma in negativo e quella roba là è molto più facile e di conseguenza entri dentro quel turbine e manifesti le cose brutte e qua in Sicilia ancora di più perché qui abbiamo e ne parlavamo l'altra volta pure con Erika c'è l'arte del mischiniarisi perché ogni tanto è più semplice diciamo empatizzare con qualcuno che sta male capito o entrare proprio in zintonia per dirami di spiaggia quindi tutti tendono a raccontarti una cosa che gli è andata male capito in questa maniera tu ci dici nessuno tende ogni tanto mi sento dire da alcune persone no c'è questo obiettivo ma non ne parlo per scaramanzie ma tu sai che la scaramanzie no e non ne esiste quindi più ne parli più alleati puoi trovare quello che puoi fare lungo il cammino quindi se non ne vuoi parlare scudami e non te rinesci se tu invece ne inizi a parlare a poco a poco vai scegliendo anche le persone giuste diciamo per parlare non è che per forza devi parlarne con tutti però condividere quello che hai nella tua testa è già un primo step verso la manifestazione verso avverarlo perché magari se tu non fai quello stress test della tua idea Raffaele quanto è difficile puoi capire se vale o non vale tanto come è difficile come diceva il buon Matthew McConaughey capire che tipo di semaforo hai se non lo metti sotto stress chiedendo opinione opinioni diverse a tante persone sì a voglia no no è vero è vero questa roba poi dopo che non ho avuto la prova ho detto ok è così però mi rendo conto che comunque è molto più facile lamentarsi è molto più facile trovare situazioni negative e io ci incappo spesso però cerco di riprendervi ma sai l'importante è iniziare capito perché una volta la nostra vita noi pensiamo che sia una cosa velocissima ma invece noi dobbiamo pensare in decenni capito cioè se tu oggi inizi a quando sei giù a cambiare un pochettino la tua storia fra cinque anni lo farai in maniera molto più veloce fra dieci non avrai più bisogno di farlo perché immediatamente il tuo cervello ti darà solamente quella quell'input in quel modo si è una questione d'abitudine capito si si ti devi abituare a quella roba là a proposito di questo c'è stato un libro clamoroso che ho letto che se non hai letto ti consiglio di leggere che si chiama piccoli abitudini per grandi cambiamenti l'ho sentito però non l'ho letto che in inglese ha un titolo clamoroso molto più bello del titolo italiano che si chiama atomic habit abitudini atomiche e praticamente questo qua ci dice l'importanza proprio dell'abitudine capito cioè cosa ti dice se tu migliori dell'1% in tutte le cose che fai in un mese hai migliorato del 100% chi sei se tu invece cerchi di migliorare dall'oggi al domani del 100% solo in una cosa non potrai migliorare mai assolutamente le piccole abitudini capito e io da lì per esempio mi sono andato a ristudiare come vado a letto come mi sveglio quali sono le abitudini che voglio poi per esempio io mi sveglio mi piace a me fumare mi prendo il caffè mi vado a sedere in bagno e mi fumo la sigaretta non è una cosa utile che mi migliora però è una cosa che mi fa stare bene e quindi anche questa diciamo l'ho ingegnerizzata all'interno della mia sveglia e della mia e del mio andare a letto oppure la meditazione la meditazione tutti i giorni alla meditazione che ognuno di noi diciamo lo può fare come vuole io banalmente lo faccio seguendo una traccia su youtube che dura 10 minuti lo faccio tutti i giorni dopo pranzo e mi dà l'opportunità questo di svuotare il mio secchio e riempirlo nuovo per nuove cose una sorta di power nap cioè quindi di un ripristino delle mie delle mie energie delle mie energie vitali che è un'altra cosa che c'è i primi tre mesi è una furia totale dopo dopo non ne puoi fare a meno ti dico l'ultima la doccia agghiacciata quella è una cosa che non riesco a fare cioè io invece ti dico che tu cosa devi fare il consiglio è questo tu ti fai la doccia normale quando ti stai per sciacquare la metti un poco più calda fin quando non ti dà un po' di fastidio ah ok capito ok ok e poi e poi gli dai lo shock per gli ultimi 20 secondi cambia totalmente si ma c'era un libro che parlava di sta roba qui del metodo dell'acqua ghiacciata insomma allora banalmente ci sono degli studi ora che dicono che farsi la doccia agghiacciata ti aiuta a migliorare e a far rigenerare le tue cellule perché ecco i tuoi neuroni te ne dico un'altra io personalmente per me è come si mi donano due sberle e si attivano tutte le cellule del mio corpo perché col caldo rimangono un po' in tepore capito si hanno trovato insomma un sacco di benefici però adesso non lo so quale però sicuramente è una cosa che noi a costo zero possiamo è una cosa che noi a costo zero possiamo fare tutti possiamo fare diciamo ogni volta che ci facciamo la doccia e sicuramente male non è fare stiamo parlando di 15 secondi ma principalmente il motivo per cui lo faccio lo sai perché perché io devo essere bravo a soffrire a soffrire io me la affidare a soffrire perché nella vita ci saranno un sacco di sofferenze e se io sono bravo a soffrire quindi quando le affronto per me non sarà sofferenza ma sarà il mio pane quotidiano Raffaele perché là ci sono molte fuffa tutto positivo vai vai non è cussino noi siamo molto più equilibrati gli americani tutti i giorni che ci ha vissuto che studia tantissime cose americane cioè lì ci sono estremismi che qua in Italia non potrebbero mai essere con Tony Robbins per esempio allora Tony Robbins è una persona che stimo e che però per esempio cercavo di guardare il suo il suo la sua serie Netflix non mi ha sperato no no non è una cosa sembravano tutti troppo esaltati capito cioè non sono concreti bravo io sono invece più pacato più diciamo c'è l'equilibrio bisogna avere l'equilibrio sì 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 qualche altro libro oltre a quelli che abbiamo parlato o un ultimo o un romanzo un romanzo ah Bukowski Bukowski tipo cioè io sono un appassionato di Bukowski non perché beva non perché beveva come bevo io cioè in realtà io bevo normale lui lui esagerava lui esagerava però Bukowski mi piace tanto anche perché lui per esempio ha anche un'altra cosa che ha qualcosa in comune con Paolo Crepe e con Matthew McConaughey che è un rebelle cioè che non ha seguito suo padre cioè tanto che lui quando era piccolo leggeva tutti i suoi romanzi lo leggeva romanzi si leggeva Céline si leggeva no Hemingway no perché avevano quasi la stessa età però comunque suo padre poi ha trovato tutti i suoi scritti tutto quello che faceva gli ha bruciato tutto e lui con suo padre poi non ha più parlato ha fatto una vita tremenda in motel per tutta la vita si ubriacava sempre stava con delle prostitute però le poesie che lui scriveva erano cioè di una saggezza incredibile cioè di una persona che anche nella situazione in cui si trovava ha veramente vissuto la vita e ha scelto di fare la vita che voleva fare perché una persona che beve vomita e si ripiglia una birra la mattina cioè vuol dire che sei un alcolista però se non chiedi aiuto vuol dire che a te ti piace stare in quella situazione là però la devi rendere sostenibile e non deve peggiorare la vita agli altri se no sei un egoista e infatti lui era un egoista però capisco pure che chiedere aiuto agli altri molte volte non è facile dipende che problemi hai quindi però ti voglio dire una cosa se tu devi fare l'alcolista giusto a 30 anni cioè tu ora dovresti fare l'alcolista giusto e i soldi ti dovrebbe dare tuo papà sei un egoista di merda no no assolutamente se tu te ne vai a lavorare la sera ti ammazzi di vivere ti stai ammazzando con le tue mani non stai tirando altre persone nel bar però sei un egoista con te stesso perché non ti vuoi bene cioè ti stai distruggendo secondo me cioè quindi io me fumo 25 segrette 20 segrette al giorno tanto mi piace ti piace fumare che ci posso fare allora mi piace di più di respirare l'aria che ti ha detto allora no e allora Bukowski era così cioè allora Bukowski secondo me ognuno abbiamo le nosce ognuno ha il suo vizio assolutamente ognuno penso che anche tu avrai i tuoi vizi non lo so il vino bianco il vino bianco il vino bianco il vino bianco ricercato ricercato rigorosamente ricercato no e sì no lui perché comunque è stato un grande cioè proprio della poesia contemporanea ma poi sì perché lui era proprio scriveva per come per come gli veniva cioè non è che aveva tutti sti versi non era con tutti sti virtuosismi era proprio diceva la cosa bella che io ho pensato è che scrivendo poesie e leggendo le sue poesie è che la poesia effettivamente si trova in ogni cosa cioè se tu io adesso sono qua con te ho provato una sensazione incredibile potrei scrivere una poesia perché noi abbiamo scritto per esempio di sto pod perché abbiamo parlato in questo podcast per esempio una volta io ho scritto una poesia di due ero a fiumicino mare ero con la mia ragazza a pranzo e c'erano due che erano praticamente mano nella mano e il bambino era per i fatti suoi cioè praticamente ci stava giocando con il telefono soltanto che questi due stavano mano nella mano lei aveva il telefono di qua e lui aveva il telefono di qua e ogni tanto sbuffavano e gli ho pensato ecco qua ecco un altro proprio teatrino di due persone proprio immerse nella noia che mi danno l'impressione che questi si sono sposati perché dovevano sposarsi e di conseguenza sto bambino crescerà nell'inconsapevolezza più totale e gli ho detto ecco quello potrebbe essere un quadro per scrivere una poesia quindi ecco perché dico la poesia potrebbe essere ovunque ed è ovunque come diceva lui e lui era bravo a captare proprio ogni momento era incredibile le cose come le scriveva e le sue poesie mi hanno fatto capire anche tantissime cose della proprio della vita dell'amore di come tu per esempio hai vissuto il tuo primo amore no? e come stai vivendo il secondo amore come è diverso no? di come ti può mancare una persona delle sfumature della solitudine che per esempio mi piace tanto vivere in solitudine e ho notato che per esempio io e lui avevamo gli stessi pensieri durante la solitudine e quindi trovi empatia con lui no? dai punti di vista c'è l'avviene poi vai a creare quel legame emotivo con quella persona nonostante comunque non la conosci però la vai a conoscere tramite quelle parole che secondo me è un po' diciamo lame quindi la finalità di questo del positive cast che è quello di dare nomi nuovi a situazioni già vissute già vissute capito? perché dando nomi nuovi quindi utilizzando parole nuove per raccontare le situazioni già vissute ti danno una chiave di lettura di volta nuova e quindi ti permettono di fare delle riflessioni come ci hai appena testimonato tu diverse su azioni che magari ti sono successe e che in quel momento non riuscevi a concretizzare proprio perché ti mancavano le parole per poterlo fare proprio perché ti mancavano anche gli esempi bravo gli esempi cioè io per dirti lui per me è stata un'ispirazione perché nel mio primo periodo che mi piaceva scrivere le poesie scrivevo simile a lui quindi cioè è proprio un grande esempio per me perché comunque è contemporaneo cioè proprio lui infatti diceva la mia poesia la può capire una puttana e la può capire anche l'uomo più colto del mondo non faccio distinzioni perché per me l'umanità è importante e voglio che ognuno di voi capisca le mie poesie cioè era una persona che sembrava uno stronzo un omofobo però in realtà era una persona molto sola che stava soffrendo e esprimeva il suo amore con tanto orgoglio attraverso la poesia e in quelle poesie ci sono proprio cioè vibrano quelle poesie proprio ti squarciano quindi lui è anche uno è una persona che mi ha dato tanto ed è una persona che mi ha dato tanto perché lui ha deciso di fare quello che voleva fare l'ha capito da piccolo pure lui perché ha scoperto se non sbaglio tipo ha letto per sbaglio un libro e da lì in poi ha iniziato a innamorarsi dei libri e quindi già da piccolo leggeva libri 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 e lì ha capito che poi scrivendo i suoi primi versi doveva fare quello e ha fatto quello fino a 50 anni ma non avendo successo cioè lui fino a 50 anni lavorava alle poste mentre scriveva romanzi mentre ha scritto il suo primo romanzo post office mentre scriveva poesie e scriveva per una rivista underground di Los Angeles certo ma il suo primo successo lui l'ha avuto a 50 anni così a 50 anni cioè quindi noi cioè dobbiamo vogliamo il successo a 25 a 30 anni ma ancora ce n'è di strada assolutamente assolutamente ci sono tutti gli anni avanti ancora per fare successo perché sottostimiamo quello che possiamo fare in 10 anni e sovrastimiamo quello che possiamo fare in 1 e invece è il contrario noi dobbiamo diciamo sottostimare quello che possiamo fare in 1 anno e non sovrastimare cioè dare la stima giusta a quello che possiamo fare in 10 assolutamente assolutamente perché il buon come ci dimostra il buon Raffaele dalla ribalta in 10 anni si può arrivare direttamente al cinema al cinema ancora indipendente però si è arrivati al Mediaset sono arrivato per poco però ci sono arrivato quindi bisogna crederci e questi quindi c'è tutti queste persone alla fine sono persone che ci hanno creduto e ho notato che questo abbiamo in comune che a me piace la gente che non se lamenta e fa cioè io sono una persona che se lamenta cioè Camilla lo sa la mia ragazza lo sa mi lamento non l'avrei detto dopo questa bella chiacchierata io mi lamento ho fatto lo splendido forse allora oggi no 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 sono una persona che se lamenta però mi do un'ora ok un'ora basta o poi devi diminuire devi diminuire devi diminuire no ma un'ora però divisa nel giorno tipo sigarette una due oggi e due dopo tu ti devi dare massimo cinque minuti di orologio che proprio fai una super sfuriata da solo non alle persone ti sfoghi è bellissimo quando ti sfoghi è finì è finì è finì e tu però ti metti dici sono arrabbiato sì cinque minuti orologio proprio tu mi pugna lo cuore così finisce a post possiamo ritornare sì sì ma anche sta cosa per esempio è l'allenamento cioè come ti dicevo prima cioè prima mi lamentavo molto di più adesso sta diminuendo sta diminuendo sta diminuendo la cosa importante che ho imparato a fare diciamo oltre a non lamentarmi mai più ma cercare tutte le difficoltà l'opportunità la cosa principale che ho imparato a fare è non portare il rancore ah quello è vero quello è vero rancore no perché questo qua ti dà l'opportunità soprattutto con le persone a cui sei caro quando avete un piccolo diciamo confronto io per esempio con mia mamma con con mia mia sorella con i miei fratelli quando abbiamo diciamo una diatriba io esco dalla porta e automaticamente tutto quello che c'era rimane dentro quella camera che poi quando la riapero non sarà più quella camera sarà una nuova camera e in questa maniera io non non porto con me il rancore ma anzi porto con me diciamo nuovamente la gioia di vivere la gioia di essere di condividere eccetera al fine diciamo di non farmi modificare le emozioni da quella persona e quell'atteggiamento ma ricordandomi che prima di tutto ci vogliamo bene e poi vengono tutte le altre cose vabbè giustamente ci sono le situazioni negative come positive cioè la vita non è sempre app e app e app assolutamente però c'è a noi scegliere cosa vedere sì quello è vero c'è a noi ingegnerizzare la conversazione con noi stessi per scegliere cosa vedere e c'è anche a noi poter dalle lamentele trarne opportunità opportunità no quello è vero quello è è assolutamente importante capire cosa cosa decidere tra le cose però che è negabile che ci siano le situazioni positive e le situazioni negative nella vita cioè giustamente non si può stare sempre in app si deve stare anche in equilibrio abbiamo parlato di crepette abbiamo parlato di matthew mccone abbiamo parlato di gotto abbiamo parlato di bukowski abbiamo parlato di wash di wash l'avevo dimenticato walsh walsh infatti ti chiedevo c'è qualcuno che sto dimenticando no quindi abbiamo coperto in maniera abbastanza ampia diciamo l'importanza della lettura avevamo anche altri bei punti da analizzare però abbiamo parlato già tanto quindi queste quali riserviamo o qualche contenuto speciale in qualche altro format anche perché quando ci sarà la premiere poco fa dicevo che me lo farà sapere il buon Raffaele e quindi eventualmente poi faremo l'episodio 2 in tournée dopo la premiere che abbiamo visto così per avere qualche feedback interessante ma attendiamo le date attendiamo le date ma adesso usciamo da tutti gli schemi del positive cast usciamo diciamo da tutti i discorsi mirati che il nostro positive cast ci ci impone e ci avviamo verso le battute finali ti dico a te hai qualche saluto da fare c'è qualche cosa che vuoi dire vai a ruota libera questo è il tuo momento credo di aver detto veramente un sacco di cose cioè no vi ringrazio vi ringrazio per insomma per avermi ospitato e insomma spero che che verrò qua di nuovo con con il sequel da fare perché abbiamo tante cose questa conversazione potrebbe durare pure fino a dopo domani no credo di aver ringraziato tutti soprattutto nella fase eroi quindi quindi sì verrebbe da dire soltanto abbiate coraggio di affrontare problemi e datevi da fare insomma questo e questo è un bell'appello un bell'appello rischiate rischiate ecco quello rischiate basta io il rischio lo definisco in scommettete scommettete in voi stessi perché la scommessa è data diciamo da un'analisi dei fattori che ti vanno a vedere qual è il rischio su cui scommettere su cui tu sei in grado di poter scommettere quindi utilizzo la parola proprio scommessa scommessa oltre che rischio perché diciamo ci fa premonire che dietro ci dovrebbe essere uno studio del rischio del rischio del rischio di erro quindi scommettete scommettete sognate sognate che le cose non sono impossibili e lamentatevi meno non fate come me che se lamenta a casa alla grande cari amici grazie ancora una volta per essere fin qui oggi abbiamo avuto delle bombe di riflessione con il nostro grande Raffaele Taddei che ci ha fatto scoprire un mondo nuovo per per noi il mondo dell'attore ma oltre a questo abbiamo conosciuto veramente una persona timida ma che è veramente straordinaria perché ovunque lo tocchi come si dice qua in siciliano un ne tocchi e suona e quindi e quindi veramente è stato un grandissimo piangere anche per me scoprire così profondamente avere l'opportunità anche di imparare così tante cose perché sei stato veramente una fonte di riflessione fonte di discussione fonte anche di istruzione perché lo stesso vale per me grazie grazie perché hai parlato di gotto hai parlato dei libri anche riflessione quando la cosa più allusionante quando mi hai detto diciamo dell'espressione di Alessandro Borghi nel nel telefilm diciamo super sexy come improvvisava il buono Rocco Sifreddi che io era una cosa che mai avevo diciamo immaginato ne vedevo tanti altri rispetti ma questo qua ne lo specifico mai è stato veramente molto possiamo approfondire la prossima volta la prossima volta la approfondiremo sicuramente quindi cari amici grazie mille ancora una volta per essere arrivati fin qui vi voglio tanto bene e con questo si conclude il ventitresimo episodio del nostro positive cast con il grande Raffaele Taddei noi vi salutiamo e vi diciamo alla grande alla grande ciao